Inizio De Pascale, Ancarani, Ancisi, Baccalì, Baldrati, Bazzocchi, Beccari, Bombardi, Buonocore, Buzzi, Camegliani, Campidelli, Cortesi, Di Pasquale che mi risulta assente giustificato, Donati, Ercolani, Esposito, Ferrero, Folli, Francesconi che mi risulta assente giustificato, qua c'è scritto così, Gatta, Grandi, Agibecu, Impellizzeri, Margotti, Montanari, Natali, Perini, Rolando, Schiano, Balbonesi, Vasi, Berlicchi, Berlicchi, sono presenti anche Sono presenti anche l'assessore Gallonetto, Randi, Baroncini, seduta legale? Grazie direttore, giustifico anche l'assessora del Conte, la consigliera Francesconi e il consigliere Di Pasquale, procediamo con il question time, il primo è presentato dal consigliere al Gibecu, la risposta è di competenza della sessora del Conte, quindi lei riceverà risposta scritta nei tempi, a lei la parola. Grazie Presidente, innanzitutto colgo l'occasione per esprimere le mie più grandi felicitazioni per il risultato personale ottenuto a seguito delle recenti politiche svoltesi e anche per il nuovo percorso politico che intraprenderà e che la porterà alla massima sede istituzionale del nostro Paese, in rappresentanza dei cittadini e della nostra città. Chiaramente un auguro di buon lavoro anche alle forze politiche presentatesi coese e risultati vittoriosi in questa tornata elettorale, perché la democrazia è anche questa, l'assoluto rispetto della volontà della maggioranza del popolo, indipendentemente dal risultato ottenuto dalla forza politica d'appartenenza. Fatto questi opportuni auguri sono a portare all'attenzione del Sindaco e della Giunta Comunale una questione molto urgente che interessa alla località di Ido di Dante, il cui question time ha per oggetto urgente sfalcio delle canne in prossimità di via Marabina. Do subito lettura del dispositivo. Premesso che la frazione di Ido di Dante è direttamente collegata alla città di Ravenna attraverso un unico percorso, rappresentato dalla strada che insiste sulla via Marabina e consistente in due corsie, uno per senso di marcia. Considerato che sulla suddetta strada centinaia di autoveicoli e motocicli marciano quotidianamente per raggiungere la località balneare di Ido di Dante e che sulla corsia preposta in direzione Ravenna sono presenti consistenti cespugli ed arbusti di canne sugli argini dei fiumi. Ribadito che la non curanza della vegetazione può portare ad una prevalenza eccessiva della flora a ridosso del manto stradale, con conseguente aumento dell'insicurezza della viabilità e che tale inadempienza possa produrre effetti negativi, amplificati da condizioni meteorologiche averse, come quelle riscontrate sabato 17 settembre, in cui ho anche allegato un riscontro fotografico. Rispetto all'incolumità dei cittadini e dei cittadini che la percorrono giornalmente, quali sinistri ed incidenti stradali dovuti dall'ingompro del verde. Riconosciuto che il servizio di sfalcio, quale soluzione deterrente continua per una corretta manutenzione accessoria della viabilità stradale in questione, non sia di diretta competenza del Comune, ma che la fattispecie sia comunque doverosamente meritevole dell'interessamento dell'amministrazione. Tutto ciò premesso e considerato si chiede al Sindaco e alla Giunta di sollecitare a chi di dovere l'urgente sfalcio degli arbusti e delle canne sugli argini dei fiumi e di dare seguita a concretizzazione, previa opportuna comunicazione degli auspicabili interventi. Grazie. Grazie, Consigliere Aggibecu. Passo la parola ora al Consigliere Perini. Anche lei riceverà risposta scritta. Sì, il Sindaco non è presente per impegni istituzionali. Ha lei la parola? Vabbè, mi dispiace perché questo è un argomento, farò un ordine del giorno. Il progetto Carta Bianca del Comune di Ravenna è iniziato nel 2017 con l'adesione dell'USL al fine di migliorare la qualità della vita delle persone disabili, fra parentesi le persone più svantaggiate anche per colpa del Covid, sono stati i propri disabili, che sono visti tagliare molti servizi. L'accesso allo sportello unico a CMP per la pronotazione dei vari servizi è stato nel 2018 abbandonato e sostituito da azioni, dice l'USL, di miglioramento. Io fece un'interrogazione allora con risposta a USL dove mi dicevano che il servizio veniva migliorato. Piattaforma amministrativa di Ravenna con l'adozione di una procedura interna che interessa non soltanto lo sportello unico CUP del CMP ma anche alcuni servizi ospedalieri di Ravenna, Faenza, Cervia e Lugo. Considerato che da più parti, io continuo, ma penso anche i colleghi consiglieri, arrivano segnalazioni di difficoltà, cioè è stato tolto, non c'è più la carta bianca, se uno va al CMP e controlla il totem non c'è più la carta bianca. Io ci sono andato personalmente a effettivamente non esiste più la carta bianca e quindi attraverso queste segnalazioni di difficoltà a carico dei disabili o dei familiari dei disabili gravi, quindi devono fare la fila per prenotare le varie prestazioni presso il CMP, dai prelievi di sangue a domicilio, dai ricoveri ospedalieri programmati, all'accesso al pronto soccorso, tutti i disagi che vanno appunto a colpire proprio le persone disabili e i familiari delle persone disabili. Io quindi chiedo al Sindaco e alla Giunta il motivo per cui è stata tolta la carta bianca, che era un servizio comunale dell'azienda USL che funzionava e quindi di riattivarla velocemente in modo tale che mi dicono che è stata tolta la via del Covid. Però adesso è ora di rimetterla. A parte che quando fece l'interrogazione il Covid non c'era, a questo punto io mi chiedo il motivo per cui un servizio che funzionava, servizio comunale, servizio dell'azienda USL, a beneficio di famiglie e di persone disabili non ci sia più. Questo è un argomento interessante, io adesso non mi fermerò in question time, continuerò ad andare avanti perché è uno dei pochi privilegi che avevano le famiglie dei disabili. Grazie consigliere Perini. La parola ora al consigliere Ancisi. Anche lei, essendo il suo question time di competenza della Sussora del Conte, riceverà risposta scritta. A lei la parola. Il solario del cimitero è inaccessibile da giugno 2019. A maggio era crollato il tetto. Il 14 ottobre chiedemmo spiegazioni e ci fu risposto che il solario, il lossario e l'impaticabile causa l'alabenza della copertura del solaio dove si è rilevato un ammaloramento con ferri scoperti nell'intradosso che ne reso necessario il trassenamento a tutela dell'incolumità degli utenti. E questo spinse l'iste per avena ad insistere perché si procedesse al più presto al recupero dell'immobile. Tanto che il 17 novembre 2020 la Giunta approvò il progetto esecutivo di restauro e consolidamento dell'ossario finanziato con 300.000 euro nel piano degli investimenti, di modo che la redazione dell'opera sarebbe dovuta avvenire entro il primo semestre nel 2021. Sorvolo sul contenuto dell'intervento con un progetto che mi è parso peraltro pregevole perché è anche un'opera d'arte questo monumento. L'operazione è un'opera lunga perché solo nel febbraio 2022 l'opera fu affidata alla ditta di Nino Giuseppe di Campobasso e quindi con l'obbligo di concludere i lavori entro otto mesi. Quindi si sperava che con le festività attuali, prossime dei morti, l'opera fosse compiuta. A tutt'oggi invece non è neppure cominciata senza che se ne sappiano le ragioni. Tanto che all'ingresso di via Baiona di Fonte Rossario c'è ancora beffardamente un avviso ai visitatori che è lì dal giugno 2019 dove si legge a breve avranno inizio i lavori di restauro e consolidamento dell'ossario presso il cimitero monumentale. La durata stimata è di circa otto mesi. C'è comunque almeno una mancanza di comunicazione, sorvolo sul valore monumentale e spirituale di quest'opera che è altissimo, l'ho anche descritto, che l'assessore interrogato da un giornale abbia detto che i lavori sarebbero cominciati entro due settimane che scadono il 10 ottobre. Non significa che la colpa sia stata soltanto della difficoltà a trovare una ditta causa del provvedimento nazionale per recupero degli edifici, perché comunque sono stati affidati otto mesi fa, nel febbraio del 2022, con l'obbligo di chiudere i lavori entro otto mesi. A questo deve essere data risposta, a prescindere che, e vedremo se i lavori saranno cominciati il 10 ottobre, ma se anche fossero cominciati, sono otto mesi di vuoto ingiustificati, a cui chiedo risposta scritta, purtroppo scritta dall'assessore. Grazie consigliere. La parola ora a Perini. Passiamo alla successiva, esposito. Consigliera, lei la parola, risponde l'assessore Gallonetto su il disastro in via Maggiore, panchine rotte ed erbacce. Lei la parola. Grazie. Ho premesso che l'interrogazione è di maggio, più di quattro mesi fa, ormai quasi cinque. Disastro in via Maggiore, panchine rotte ed erbacce. Allego delle foto che sono emblematiche. Qualche giorno addietro mi è capitato di percorrere via Cavour in direzione Piazza del Popolo, propriamente in senso contrario transitava un gruppo di allegri e maturi alpini, uomini e donne che si avviavano verso via Maggiore. Ritornando indietro, ho avuto modo di osservare un indecoroso spettacolo, sicuramente visto anche da quegli alpini, persone che forse decideranno di trascorrere le loro vacanze qui da noi, o forse lo hanno già fatto. Persone che come me si porranno il problema dell'attenzione con cui curiamo l'arredo urbano, le nostre strade, le nostre aiuole. Le panchine in via Maggiore sono infatti in uno stato letteralmente indecoroso e in realtà avrei potuto usare delle parole un po' più forti, ma mi sono limitato e indecoroso. Oltre ad essere mal ridotti, addirittura una di queste allo schienale attaccato alla seduta con del fil di ferro per evitare che cada. Le erbacce la fanno da padrone, spuntando dagli sgangherati listelli di legno delle panchine stesse. Vi è poi l'abbandono in una liuola di due dissuasori gialli, manufatti di cemento detti comunemente panectoni, la cui collocazione evidentemente non risulta davvero la più consona. Insomma, uno spettacolo di enorme degrado, come si vede dalle foto allegate, che non riesco a mostrare adesso, che mortifica la nostra città ed il lavoro di quanti operatori turistici ed albergatori si battono per fare di Ravenna una città sempre più aperta ed ospitale. Tutto ciò premesso, si chiede a sindaco e giunta di ripristinare il decoro dell'arredo urbano, sistemando le panchine e tagliando la giungla d'erba che vi è cresciuta attorno, di conoscere a quale ditta si è affidata la manutenzione che evidentemente non viene fatta, se esistono controlli periodici e con quale cadenza vengano effettuati, di conoscere se esistono penali per mancata manutenzione in capo alla ditta pautatrice a chi spetta accertare tale violazione. Al di là di altre considerazioni, sono passati 4 e mezzo, ma quasi 5, è davvero sconcertante vedere come in pieno periodo preestivo, maggio, non si curasse quella che è una strada d'accesso al centro storico, il biglietto da visita della città con un arredo urbano francamente indecente, francamente fatiscente, a dir poco. Grazie. Grazie consigliere, la parola a lei, Assessore. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti, ringrazio ovviamente il consigliere Esposito che mi dà la possibilità di rispondere a una interrogazione che ho voluto a me assegnata, anche se alcuni elementi rispecchiano altre deleghe, ma visto che comunque qui c'è un'interazione di intenti da parte di tutti, posso rispondere tranquillamente io. Spiace che la calendarizzazione di questo question time avvenga a 4 mesi dall'inoltro, non certo per volontà del sottoscritto, ma per esigenze organizzative date dal calendario e non, come ho sentito dire altre volte qui, dal fatto che gli Assessori non vogliono rispondere. Ce ne sono tante e vengono calendarizzate così indipendentemente dalla nostra volontà, alla quale ovviamente come calendario ci adeguiamo per poter rispondere a tutte le interrogazioni dei gruppi. La premessa perché, per legittima onestà intellettuale, quella prospettata dal consigliere Esposito, era la fotografia esatta di quello che lui aveva prospettato e che naturalmente questo amministratore non è avvezzo a negare l'evidenza. Noi siamo intervenuti, qualche giorno dopo peraltro quella sua interrogazione, per porre rimedio a quello che era un calendario degli sfalci, soprattutto nella zona di Via Maggiore, dovuta a una serie di impedimenti che partivano da questioni che avevano avuto la prevalenza anche perché l'allora situazione post-Covid di marzo-aprile ci aveva obbligato a destinare la maggior parte delle risorse umane concentrandole su altri luoghi. Questa non vuole essere una scusante ma credo che debba essere una legittima risposta a quello che il consigliere Esposito chiedeva. Ad oggi la situazione è entrata invece in una ordinarietà di intervento. Per quanto riguarda l'arredo urbano noi ci troviamo di fronte ad una prospettiva che prevede l'arredo urbano per i parchi pubblici gestita dal mio assessorato. Per quanto riguarda invece l'arredo urbano di zone più interne alla città del centro storico, l'ordine degli acquisti, essendo le panchine completamente diverse, ovviamente per regolamento comunale, avviene da parte di un altro assessorato. Stiamo cercando però di interagire insieme per fare, mi passi il termine, una sorta di gruppo di acquisto intelligente come amministrazione comunale, in modo naturalmente di economicizzare anche l'intervento dell'arredo. Per quanto riguarda proprio questo discorso di economizzazione, stiamo coinvolgendo anche con l'aiuto indispensabile di altri colleghi di questa Giunta, anche alcune associazioni perché per il recupero di queste panchine, perché alcune volte, come sottolineato da lei, è stato aggiunto del fil di ferro, chiaramente non da nessuno degli addetti, molto probabilmente da qualche cittadino che ha voluto di sua spontanea volontà compiere un'azione che naturalmente io non posso che deprecare, perché non è che si possa aggiustare una panchina con del fil di ferro e non essendo neanche un addetto. Stiamo cercando di recuperare perché queste panchine, soprattutto quelle da lei indicate, hanno un costo di circa 1.000 euro piva l'una, mentre alcune sono sicuramente e totalmente da cambiare, altre si prestano maggiormente a poter essere recuperate anche grazie all'aiuto di alcune associazioni di volontariato che sempre bene hanno fatto sul nostro territorio. Questo dal punto di vista anche di un risparmio della collettività laddove la panchina può essere recuperata e non necessariamente sostituita. Non esistono penali per una mancata manutenzione in capo alla ditta appaltatrice. Spiego, questo è stato un ritardo dovuto a un inizio e una prosecuzione di lavori che noi nel giro di due mesi siamo riusciti a superire. Quindi non credo, anche dall'esame dei documenti e dalla situazione che si era creata anche con l'assenza di numerosi nostri addetti, che questo possa essere vagliato come giuridicamente inquadrabile in una penale perché trattandosi di un caso di forza maggiore dovuto all'emergenza Covid che aveva ritardato l'impiego e quindi la forza maggiore esclude in quel caso la responsabilità in termini di risarcimento del danno. Grazie, consigliero concluso. Grazie, Assessore. La parola a lei per replica. Grazie. Sì, devo dire che l'Assessore Igor è sempre puntuale comunque. Gallonetto. La ringrazio per la puntualizzazione. Tengo però a sottolineare ad esempio che lo stato delle panchine che ovvio hanno un costo ma io in un'altra occasione ho sottolineato come fosse possibile, magari anzi opportuno, sostituire delle panchine in legno che per motivi evidenti sono deperibili in maniera anche piuttosto veloce con altro tipo di materiale. Ci sono panchine in cemento, ci sono panchine di altro, laterizi vari piuttosto che in ferro eccetera. E sono anche presenti sul nostro territorio. E sono anche presenti sul nostro territorio. Quindi l'idea che lei diceva di fare un centro, si chiamano così, centro unico di spesa, che è una cosa che viene applicata dalla pubblica amministrazione, in realtà neanche da tantissimi anni, perché non mi riferisco adesso all'amministrazione, ma gestire gli acquisti chissà perché piace, però apro e chiudo parentesi. Un centro unico di spesa, non mi riferivo ripeto all'amministrazione, ma ad altri enti dello Stato, un centro unico di spesa è cosa buona e giusta, sia perché si omologherebbero le varie tipologie, rendendo anche visivamente l'immagine della città più consona, più attraente. Il costo si abbasserebbe. Ma detto questo per le panchine, gli sfalci, come dimostrano le foto che probabilmente lei ha, danno l'idea della non curanza, del tralasciare un servizio, perché l'erba 30-40 cm che usciva dai listelli delle panchine anche di un bel po', non è che cresce in un giorno, sera e mattina come i funghi, no. Qui ce ne sono mesi, mesi. Sottolineo, ma l'ho detto in altra occasione e ripeto, anzi credo che lo dirò ancora, la manutenzione che viene fatta a Ravenna per le strade, per lo sfaccio dell'erba e quant'altro, credo sia sotto il cappello di era, che non so perché non mi è simpatico, non so perché non mi è simpatico, ma non perché particolarmente non lo so, perché offre un pessimo servizio. Era, lo dico, è registrato, per quanto mi riguarda, era, offre un pessimo servizio. Si vede in tutto, si vede in tutto, anche in queste cose. non è, si vede in tutto, una roba del genere è, ripeto, poco rispettosa e non voglio usare altri termini, per le persone che scelgono Ravenna come meta delle loro vacanze, è poco rispettosa per i cittadini che l'abitano, è poco rispettosa per l'amministrazione comunale, perché un servizio del genere non ha ragione di esistere, è un servizio indecente, inadeguato, svolto da incompetenti e da chi non sa gestire quello che deve fare. Purtroppo, cosa posso io controere? Al momento nulla, però per il futuro non lo sappiamo. Grazie. La parola ora al consigliere Perini per l'interrogazione successiva. Avente ad oggetto tuteliamo l'area antistante Galla Placcidia, risponde l'assessore Baroncini. Ma lei la parola? Io ricordo che feci un'altra interrogazione, era assessore, l'attuale assessore regionale Corsini. La questione è la zona antistante Galla Placcidia, che è una gemma della nostra città e zona pedonale. La piazzetta antistante è la chiesa di Santa Maria Maggiore, una delle chiese più antiche dal punto di vista di essere stata consacrata alla Madonna. E dove, questa è una cosa interessante, il compositore Cole Porter scrisse, ammirando i mosaici di Galla Placcidia, la famosa canzone Night and Day. Questo è un luogo particolarmente caro ai Ravennati, soprattutto d'estate, quando passeggiano per la città, si siedono, chiacchierano, guardano la bellezza di San Vitale, di Santa Maria Maggiore, di Galla Placcidia. Il problema qual è? è che lì, non essendoci abitazioni, perché sono tutti uffici, c'è uno stabile, e c'è la basilica di Santa Maria Maggiore, è sempre pieno di macchine parcheggiate. Io non riesco a capire. Mi dicono, no, io quando fece l'interrogazione che c'era l'assessore Corsini, mi diceva ma sì, ma se dopo c'è bisogno dell'ambulanza, ma lì non ci sono uffici. Però io l'altro giorno non sono andato a messa proprio lì e ho notato che dove parcheggiano effettivamente c'è scritto che ci sono delle mattonelle proprietà privata, molto probabilmente della parrocchia. Però uno ci deve arrivare lì. Mi dicono, no, però quando ci sono i matrimoni, gli sposi vogliono arrivare giustamente, chiedi un permesso come quando gli sposi chiedono il permesso di entrare in Piazza del Popolo. Quella è una zona che va tutelata, perché i turisti lì passano ogni anno non migliaia, centinaia di migliaia di turisti e vedendo le macchine parcheggiate insomma non è carino. Quindi io chiedo all'assessore, tra l'altro c'è nel 2016 appunto su quell'interrogazione Corsini fu molto bravo, la giunta fece una delibera che diventò zona pedonale. Però le macchine arrivano lo stesso. Quindi io chiedo all'assessore di, non so in che modo, con dei controlli maggiori, con le telecamere, non lo so, in modo tale che quell'area rimanga un'area a misura dei cittadini, dei bambini, degli anziani e dei turisti. Grazie consigliere, la parola a lei, assessore. Sì, grazie presidente, grazie al consigliere Perini per questa interrogazione. Non è la prima volta, adesso non so se in atti formali o per conversazioni formali che parliamo di questa zona col consigliere, segno anche dell'attenzione rispetto a questa parte così suggestiva, importante e caratterizzante del nostro centro. E devo dire che con grande fatica e con percorsi anche lunghi, come quello che il consigliere conosce bene di Piazza Garibaldi, su cui è stato protagonista, diciamo, di un altro percorso simile, ma già prima su Piazza Baracca, insieme al colleghi Sbaragli in quel caso e Corsini nell'altro, insomma, pone un tema molto sentito. Dunque le cose non sono ferme, nel senso che, come ricordava il consigliere, c'è il riconoscimento e la condivisione rispetto alla necessità di valorizzare quella parte della città. Nel 2016, giustamente, è stato ricordato perché è un passaggio, diciamo, formale anche molto importante, è stata inserita quella parte dentro le zone pedonali della nostra città e del nostro centro storico. Devo dire che nelle successive delibere, anche quelle che abbiamo fatto in attuazione dei decreti Covid, abbiamo ribadito la natura di area pedonale, di area di interesse pedonale di quella zona. Ora, diciamo così, anche per rispondere a un altro percorso che il consigliere ha molto cuore, che è quello del contrasto dei corrieri in centro, dovremmo sicuramente riuscire a migliorare nelle prestazioni di controllo, perché, diciamo, a livello formale quella, come diceva, è un'area pedonale e sicuramente aggiungere un altro tassello alla valorizzazione importante. Seguiranno poi, con percorsi che conosciamo, che sono legati al bilancio, eccetera, a programmare alcuni interventi di riqualificazione, perlomeno dell'arredo urbano di minima. Quindi sì, condivido, la risposta ci proveremo, proveremo già per quest'estate a mettere insieme una serie di azioni che possano lavorare sul controllo e quindi garantire una fruizione corretta di quella zona. Sull'intitolazione, chiedo al Consiglio, se vuole, predispongo il modulino anche da girare alla toponomastica. Io, da musicista, non posso che appoggiare questa sua richiesta. Il profilo di Porter e la bellezza del brano, insomma, che è nato dall'ispirazione di quei posti, sicuramente degno di una riflessione della commissione toponomastica della città. Ringrazio l'assessore che ha ricordato anche Piazza Garibaldi. Sul suggerimento, devo essere sincero, non mi voglio prendere i meri dell'assessore attuale sbaraglia, io feci questa interrogazione e io tra l'altro sarei per togliere le macchine anche da Piazza Garibaldi. Io mi auguro che la prossima giunta faccia questa, diciamo, questa svolta per la città, anche perché il centro storico è piccolino, tra l'altro vicino proprio a Santa Maria Maggiore c'è anche il parcheggio di Caserma Gorizia, a poche centinaia di metri da quella zona centrale. Sui corrieri, adesso ho fatto un'interrogazione, ho visto che hanno allungato di mezz'ora fino alle dieci e mezza con i turisti che passano in via Cavour, oltretutto ci sono gli stalli per il carico e scarico merci, i famosi stalli gialli, dove parcheggiano le macchine e le parcheggiano per tutta la giornata. Allora c'è qualcosa che non funziona. Grazie consigliere, la parola al consigliere Verlicchi. Per l'interrogazione successiva risponde l'assessore Gallonetto, oggetto situazione di De Grande in località di D'Adriano. Grazie Presidente, è un'interrogazione molto breve, come si vede anche dal testo, anche perché la situazione credo sia ormai conosciuta da tutti, anche perché si protrae da diversi anni e in questa interrogazione appunto parliamo, partiamo da diverse segnalazioni che da diverso tempo arrivano dai residenti di questa località e che segnalano il problema delle erbe alte in diverse vie, tra le quali ad esempio via Lecellini e anche alberi, in particolare aceri, ammalati e piantumati lungo i marciapiedi che creano problematiche molto serie. In più c'è la famosa area Ex Aquasirius che qualche anno fa fu in parte ripristinata grazie, lo devo dire, all'insistenza del mio gruppo consigliare, ma che continua ad essere comunque ancora in parte purtroppo foriera di animali, insetti, eccetera, vista la vegetazione che continua a crescere senza alcun controllo. Riteniamo che una località come quella di Lido Adriano, che è una località turistica che vive principalmente il turismo, debba presentarsi in una maniera decorosa, decente e pulita e per questo chiediamo all'assessore, poniamo tre quesiti all'assessore, ovvero se si è effettivamente al corrente e quindi abbia mai avuto modo di verificare di persona tale situazione, quando è previsto lo sfalcio dell'erba, delle radici, degli aceri nelle vie, nella località di Lido Adriano e quando è prevista una manutenzione nell'area Ex Aquasirius. Si tenga conto che questa interrogazione non è vecchissima, è del 13 luglio 2022, però nel frattempo magari qualcosa può essere stato fatto. Chiedo all'assessore, grazie. Grazie consigliera, la parola a lei, assessore Gallonetto. Grazie presidente, ancora buon pomeriggio, ringrazio la consigliera Verlicchi per la sua interrogazione e parto dalla vecchia interrogazione che presentò sempre la consigliera Verlicchi, sempre riguardo alla situazione all'Aquasirius. In data 16.04.2018 il sindaco emise un'ordinanza dove dichiarava inagibile l'area, che allora era ancora di proprietà della Dama SRL e naturalmente diede disposizioni in quell'ordinanza di provvedere alle situazioni di degrado che si erano appunto create proprio con l'abbandono da parte della società, società alla quale è stato oltremodo difficile poter notificare quell'ordinanza, poiché la società risultava irreperibile e cioè la sede presso quello che era stato indicato il commercialista di allora era stata revocata e il legale rappresentante non era di fatto reperibile. Questo naturalmente non aveva scoraggiato né l'amministrazione di allora né l'amministrazione di oggi nel cercare ovviamente di porre un rimedio a quello che è la condizione nella quale versava e a tratti versa quell'area. Dico a tratti perché? Perché nel frattempo è subentrato il fallimento della società Dama SRL e noi ci siamo trovati a interagire con la curatela fallimentare. Curatela fallimentare che è rappresentata da dottoressa Simonetta Zuffi di Lugo che oggi interloquisce con noi e proprio qualche giorno prima della interrogazione della consigliera Verlicchi che peraltro faceva notare una situazione reale che esisteva, non era una situazione inesistente, noi avevamo sollevato quelle stesse domande sicuramente non precise ma si riferivano esplicitamente alla condizione in cui versava l'ex Aqua Sirius e ci era stato assicurato che sarebbero intervenuti dalla curatela. Cosa che è stata fatta, le dico subito secondo me non perfettamente, nel senso che è vero che si è proceduto da parte della curatela e mi rendo conto anche che le disposizioni economiche, cioè i fondi economici che la curatela adesso ha a disposizione sono veramente pochi perché le passività sono molto importanti, i crediti verso terzi sono quasi inesistenti e gli immobili di proprietà della fallita dama SRL non riuscirebbero a dare capienza al fallimento. Quindi la curatela sta facendo il massimo. È chiaro che noi non possiamo fornire nessun genere di aiuto di fondo ad un soggetto privato che è stato dichiarato fallito. Questo ci impedisce categoricamente di poter anche soltanto fare intervenire e anche marginalmente qualcuno dei nostri, proprio per le ragioni che la Consigliera conosce quanto me. Certo è che terremo costantemente monitorata la questione sperando che le aste giudiziarie per l'acquisto dell'area, che ad oggi non è stata ancora considerata visto gli importi a cui è finita appetibile, lo possano diventare. Anche perché, e qui riprendo il ragionamento fatto anche dalla Consigliera Verlicchi, io credo che Lido Adriano meriti che quell'area venga completamente recuperata da parte di un privato e che possa tornare, se non magari nella stessa attività commerciale che allora si sviluppò, ma quantomeno che possa tornare a disposizione dell'interezza sia dei cittadini di Lido Adriano, sia dei turisti di Lido Adriano e sia anche della nostra città che Lido Adriano ha una località straordinariamente importante e non recentemente, perché la storia di Lido Adriano proviene anche quella turistica da molto lontano, anche ben prima di altri Lidi. Non è facile, e qui vado a concludere per quanto riguarda lo spalcio dell'erba e delle radici degli alberi nella località di Lido Adriano, che potrei prendere per esempio anche per altri interventi. Non è facile spesso riuscire a fare questo genere di intervento coniugandolo con un intervento sulle radici, sul verde e dall'altro con una prospettiva alcune volte che deve andare di pari passo anche con un rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi, perché o le cose si fanno con una sequenza prima per poi seguirla, altrimenti si rischia di compiere due volte lo stesso lavoro e magari con risultati che non appaiono assolutamente visibili per la cittadinanza. Grazie. Grazie Assessore. La parola torna a lei, Consigliera. Grazie, ringrazio anche l'Assessore Gallonetto. Mi trovo d'accordo su molte delle considerazioni che lei ha fatto. Lei nel 2018 non era ancora parte della Giunta, quindi non saprà sicuramente che ci fu un passaggio che portò a quella ordinanza firmata dal Sindaco che lei ha citato e fu un passaggio dovuto, doveroso da parte nostra, di una diffida al Sindaco, perché comunque si continuava ad avere la difficoltà a rintracciare la società illegale rappresentante perché potesse intervenire. Dall'altra parte, un certo disinteresse dell'amministrazione comunale verso questa situazione. Quindi ci fu questa diffida da parte nostra, ne seguì l'ordinanza, ne seguì una parziale, un parziale ripristino dell'area. La ringrazio per essere stato molto onesto dicendo che a suo avviso ancora l'area non è proprio nelle condizioni ottimali. Oggi c'è una curatela che, come diceva lei, sicuramente con tutte le difficoltà del caso, vista la situazione, non può agire magari nella maniera ottimale, ma allo stesso tempo c'è forse, vediamola in positivo, una facilità di dialogo, almeno sappiamo con chi parlare. Sapete con chi parlare, visto che lei dice terremo monitorato, almeno avete un referente con tutti i limiti che può avere appunto nella situazione. Per quanto riguarda la questione delle famose radici, concordo con lei che ci vuole una visione di insieme per gli interventi. Durante la scorsa campagna elettorale, una proposta che venne da chi mi sosteneva, da tutte le liste civiche che mi sostenevano come candidata, fu quella delle gabbie vegetative, che sono state, come lei forse saprà, utilizzate in alcuni comuni a fianco a noi, che prevedono un intervento praticamente definitivo nel controllare le radici degli alberi, mantenendole sane, facendo passare l'aria e anche la luce allo stesso tempo evitando che queste emergano e quindi creino problemi. Se vuole ne parliamo, anche separata sede, ma sono d'accordo che questo intervento deve essere un intervento ovviamente completo e ci vuole una visione completa e non solo un intervento spot perché altrimenti non è percepito. Però bisogna anche che iniziamo, assessore, quindi le chiedo veramente di poter stimolare la giunta e poter trovare quelle che sono le risorse che mi rendo conto non siano risorse da poco, affinché si possa intervenire finalmente per risolvere, non la vedo, delle situazioni che effettivamente permangono su nostro territorio da tantissimi anni e i residenti ne sono molto appranti e stanchi. Grazie. Grazie consigliera. Abbiamo l'interrogazione. Ercolani non è ancora arrivato. Procediamo alla successiva. L'interrogazione è presentata dai consiglieri Vellicchi e Rolando. Presidente, la posso presentare anche io? Per fatto, risponde l'assessora Randi. Sì, vedete che verifico al volo se mi ha scritto qualcosa. Ma io passerei a quella dopo, se poi... Vabbè, passiamo a quella dopo, poi eventualmente si arriva la legge di Vellicchi. Sì, sì, va bene. Ah, ok. Avventa d'oggetto le affermazioni del sindaco ai traffici portuali con il Mar Nero. A lei la parola. Grazie Presidente e buon pomeriggio a tutti. Interrogazione con richieste e risposte in Consiglio Comunale alle affermazioni del sindaco, lo ripeto, ai traffici portuali con il Mar Nero. Permesso che in data 21 giugno 22, nella seduta del Consiglio Comunale, in occasione della discussione della proposta PD 232-2022, intitolata relazioni solidari con le città portuali dell'Ucraina, a partire da Odessa e Mariupol. Il sindaco di Pascale è intervenuto affermando che la nostra città, i suoi valori, le bandiere che sono affisse in quest'Aula non sono in vendita e finché almeno la mia voce sarà libera dirà queste cose in maniera molto, molto chiara e trasparente. Quindi, visto che oggi sono state adotte a questo rinvio motivazione che sono l'opposto rispetto a quelle che mi erano state presentate, che sono apparse anche sugli organi di stampa, diciamo, blog o titoli di vario tipo. Io lo voglio dire in maniera chiara. Secondo me, questo Consiglio dovesse ritenere di non votare quest'ordine del giorno per paura che un dittatore di rotti quattro navi, adesso lo dico in maniera puntina in puntina, almeno dovrebbe avere la trasparenza e il coraggio di dirlo, dovrebbe dire noi dei porti ucraini e delle città ucraine non ce ne frega niente perché se esprimiamo solo l'idealità a loro ci mandano quattro navi in meno e quindi se ci mandano quattro navi in meno noi stiamo zitti. Noi non siamo stati mai zitti, sono intervenuto quest'anno nella messa davanti al ministro egiziano e gli ho detto in faccia quello che gli dovevo dire e ci sono imprese di Ravenna che lavorano in Egitto. Lo dico con chiarezza ma questa non è una città in vendita e se le navi torneranno ad arrivare dall'Ucraina perché l'Ucraina sarà un paese libero, le navi arriveranno dall'Ucraina, se l'argilla non arriverà dall'Ucraina arriverà dal Brasile, se non arriverà dal Brasile arriverà da un altro porto ma i nostri valori non possono essere in vendita oppure se desideriamo che sia così almeno però diciamocelo, lo diciamo, siamo trasparenti, diciamo come la pensiamo e siamo coerenti con questo. Io penso che noi dobbiamo oggi procedere con questa delibera e dobbiamo mantenere un messaggio chiaro che Ravenna non è una città in vendita, che i nostri valori non sono valori alla merce di qualunque dittatore del mondo, qualsiasi sia la sua provenienza e qualsiasi sia l'ideologia che lo muove. Queste sono le parole del Sindaco. Considerate che detta affermazione oltre a essere davvero inopportuna merita di essere verificata e chiarita. Ritenuto che Ravenna e il suo porto devono perseguire l'obiettivo indispensabile per il futuro della nostra città di sviluppare le relazioni economici e traffici da e verso il Mar Nero. I sottoscritti consigliere comunale Veronica Vernicchio e Giovi-Provano interrogano il Sindaco e la Giunta Comunale per sapere se ad oggi intende confermare detta affermazione fatta durante l'intervento richiamato in premessa. Punto 2. A quanto ammontano le navi provenienti dai porti ucraini e i quantitativi delle principali merci sbarcate nel 19, 20 e 21 e fino al 30 giugno 22. Punto 3. A quanto ammontano le navi provenienti dai porti della Federazione Russa e i quantitativi delle principali merci sbarcate, appunto come prima, 19, 20 e 21 e fino a giugno 22. Spiace non vedere il Sindaco qui presente, sarebbe stato bello sentire e argomentare questi dati da Sindaco in persona. Grazie consigliere, la parola a lei, sessora. Grazie presidente, grazie consigliere Rolando e consigliera Vernicchi per l'interrogazione posta sulle affermazioni del Sindaco pronunciate durante il Consiglio Comunale del 21 giugno scorso. Interrogazione che mi fornisce oggi l'occasione per ribadirle nuovamente. Affermazioni rilasciate in piena intelligenza e coscienza che il Sindaco conferma e che sostanziano la posizione della Giunta circa la indisponibilità a barattare i valori in cui crediamo in virtù del business e degli affari. Valori come quello della pace, della libertà, della democrazia, del rispetto della sovranità popolare, dell'autodeterminazione dei popoli, dell'europeismo non sono in vendita in questa città. Non intendiamo scambiare questi valori con gli introiti. I valori fondanti della nostra Costituzione non si misurano rispetto alla reddittività delle imprese o dei porti. Mi preme precisare che, però, contrariamente a quanto indicato nel testo dell'interrogazione che lei, consigliere Rolando, ha appena letto, il Sindaco non è mai intervenuto all'OMS, che per conoscenza degli interpellanti è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma all'OMC, all'Offshore Mediterranean Conference, evento fieristico che si svolge a Ravenna ogni due anni e che riunisce le massime competenze mondiali del settore offshore. E dove l'anno scorso il Sindaco ha avuto occasione di interloquire con il ministro egiziano Tarek El Molla. Per quanto riguarda i dati del traffico marittimo richiesti dai porti ucraini e dai porti russi sono a riportarvi, quanto trasmessomi dall'autorità del sistema portuale. Sono dati complessi e complicati, ho già detto alla consigliera Verlichi prima che saranno a vostra disposizione. Cercherò, dentro questi pochi minuti, di riportarvi. Per quanto attiene al numero delle navi provenienti dai porti ucraini e russi, per quanto riguarda la Russia dal lato Mar Nero, nel 2019 contiamo 108 navi, nel 2020 136, nel 2021 160 e per quanto riguarda il primo semestre 2022 73. Per quanto attiene alle navi provenienti dal Mar Baltico, quindi siamo sempre in Russia, nel 2019 sono 14 navi, nel 2020 sono 12, nel 2021 sono 14 e nel primo semestre 2022 sono 5. Per quanto invece riguarda le navi provenienti dall'Ucraina, nel 2019 sono state 203, nel 2020 144, nel 2021 192 e nel primo semestre del 22 55. Passiamo alle principali categorie merceologiche provenienti dai porti ucraini e russi. Russia, Mar Nero sono espresse in tonnellate, nel 2019 siamo intorno alle 450.000 tonnellate, nel 2020 508.000, nel 2021 774.000, nel primo semestre 2022 sono 359.000 tonnellate piccoli. Per quanto riguarda invece le merci provenienti dal Mar Baltico, quindi siamo sempre sul lato russo, nel 2019 sono state 297.000, nel 2020 261.000, nel 2021 326.000, nel primo semestre del 22 sono 83.000 e spiccioli. Le merci invece provenienti dai porti ucraini sono state nel 2019 pari a 2.900.000 tonnellate, nel 2020 1.800.000 tonnellate, nel 2021 2.888 tonnellate, e nel primo semestre del 2022 646.000 tonnellate. Questi sono i dati ricevuti, trasmessi dall'autorità portuale che sono a vostra disposizione per un vostro eventuale riscontro. Grazie. Grazie Assessora. Replica Consiglio Rolando, lei la parola. Grazie Presidente, ringrazio Assessore. Ma ci fa piacere che il Sindaco, per mettere sensore, confermi le parole dette, che tanto una conferma da come poi andò quel consiglio non concidono con questa conferma, per tant'è vero che il dispositivo è stato modificato, modificato comunque anche in maniera importante perché è stato levato il gemellaggio diretto dal porto di Ravenna con i porti di Mariupol e Odessa. Quindi questa conferma suona un po' a sinistra le nostre orecchie, però prendiamo atto. Per quanto riguarda l'OMS l'abbiamo solo riportato dal verbale, evidentemente è chiaro che l'OMS è stato un errore del Sindaco, e quindi ci riserviamo bene di guardare questi dati perché a oggi ancora tutte queste tonnellate, tutti questi numeri di arrivi nel nostro porto sono ancora in un punto interrogativo e quindi è stato molto importante l'intervento di tutta l'opposizione per modificare quel dispositivo a nostro avviso molto negativo, per non usare termini diversi, per il futuro produttivo del nostro comparto portuario. Grazie. Grazie consigliere. Giorcolani, la calendarizziamo prossima seduta? Va bene. Allora lei la parola, risponde sempre l'assessore Randi sul tema del mercato ambulante Punta Marina. Allora, la parola. Grazie ancora il Presidente. Vado già alle premesse. Premesso che la circolazione del borgo turistico di Punta Marina Terme è prevalentemente incentrata sull'uviale dei navigatori. In esso sono concentrate la maggior parte delle attività commerciali della razione e su di esso convergono o trovano origine tutte le strade del nucleo abitato storico. Inoltre il viale dei navigatori è l'artera principale che da Ravenna conduce agli sterminimenti balneari del Lido. L'assessore, sentite gli uffici tecnici, non ha ritenuto adeguata la nostra proposta di collocare il mercato ambulante in freggio ai parchi pubblici posti in viale Cristoforo Corombo, stralciando dai parchi una fascia di circa 10 metri lungo il lato est, senza abbattere alberi, integrando così il verde nell'ambiente del mercato ed accompagnando l'intervento con una riqualificazione nella red urbana e l'illuminazione, al fine di avere un ambiente che incoraggi la proiezione del mercato in sicurezza ed in un contesto gradevole. In sede di commissione consigliare numero 9 si è discusso dello spostamento del mercato ambulante in freggio ai giardini pubblici, proposta su cui la giunta si è espressa contrariamente, senza proporre alternative che permetterebbero di risolvere la criticità evidenziata e creare una situazione migliorativa per tutte le categorie interessate. Considerando quindi che l'importanza del viale per il traffico del paese si accresce durante il periodo estivo, sia per l'aumentato numero degli abitanti che per il maggior volume di traffico diretto al mare, nel periodo estivo nella giornata di venerdì dalle 13 alle 24 circa, viale di navigatori viene chiuso al traffico per la presenza del mercato ambulante, causando disagio e documento ai turisti, residenti e attività commerciale. La chiusura del traffico di viale di navigatori causa i seguenti ordini di problemi. Punto primo, la chiusura del traffico impedisce il regolare afflusso di clienti ai locali commerciali ed agli alberghi posti sul viale o nelle vie ad esso strettamente connesse. Il punto due, la circolazione veicolare diviene difficoltosa e caotica per tutte le vie adiacenti, sia che si originano o sbocchino sul viale. Il punto tre, le possibilità di parcheggio divengono particolarmente difficili in tutta l'area centrale del paese, in quanto gli utenti del mercato non hanno appunto un parcheggio dove possono sostare. Il punto quattro, l'ultimo, per raggiungere il mare bisogna comprare importanti divisioni aumentando il traffico e i ricarichi inquinanti. Riconosciuto che il mercato di punta venina terma rappresenta un esempio di mercato redditista frequentato che merita una localizzazione più consona, funzionale e gradevole, riconosciuto anche che il gruppo consigliere della Lega non intende in nessun modo danneggiare gli ambulanti, ma anzi individuare una posizione che possa ulteriormente valorizzare il mercato e le altre attività inserite in via dei navigatori, creando uno spazio permanente dove svolgere nel mercato spettacoli e levità culturali, mantenendo la regolare viabilità e quindi non andando ad impattare negativamente sui esercenti locali, sui residenti e sui turisti. Si interrogano sindaco e giunta al fine di conoscere se ritengono rispondente al vero che posizionare un mercato sull'asse viario principale del Paese crea il disagio a Punta Marina per la creazione di uno spazio gradevole, alberato, illuminato e dotato di un arredo urbano da adibire ad attività commerciali e ambulanti, spazio espositivo e luogo per attività culturali di pubblico spettacolo. C. Al fine di ottenere una concreta proposta per una collocazione alternativa nel mercato volante di Punta Marina. Il punto D. Al fine di conoscere se ritengono destituite di ogni fondamento l'ipotesi di pedonizzazione del viale dei navigatori, anzi, prevedono che la viabilità carrabile del viale sarà mantenuta e dove possibile migliorata. Ultimo punto. Le, al fine di conoscere se ritengono che Piazza Saffi, unico contatto del Paese con il mare, possa essere inserita nel progetto di riqualificazione. Grazie. Grazie, consigliere. Assessora, ha la parola. Grazie, Presidente. Mi spiace che il consigliere Ercolani non sia presente. Ringrazio comunque il consigliere Rolando per aver letto l'interrogazione. Interrogazione, come lei ricordava, posta su un tema sul quale abbiamo ampiamente dibattuto il 14 luglio scorso durante la saluta della Commissione 9, dove abbiamo discusso l'ordine del giorno del consigliere Ercolani, col quale chiedeva lo spostamento del mercato ambulante estivo di Punta Marina. Grazie comunque per darvi nuovamente l'opportunità di ribadire in questa sede quali sono le ragioni oggettive e ragioni di carattere normativo che precludono lo svolgimento di un mercato ambulante in un parco pubblico come proposto. Mi preme però partire da una considerazione importante, non trascurabile, che voglio condividere in questa sede, considerazione che nasce dal parere fornito dalle associazioni di categoria che rappresentano in questo caso gli ambulanti che dovrebbero subire lo spostamento. Parere che è stato espresso anche durante la saluta della Commissione consigliare e che non accoglie assolutamente con favore lo spostamento suggerito. La considerazione importante di cui tener conto è questa, non emerge dal nucleo degli esercenti di commercio su area pubblica frequentanti il suddetto mercato alcuna esigenza di ricollocazione, essendo tra l'altro, come poi lei diceva, il mercato in questione particolarmente apprezzato e fruito sia dagli operatori che dalla clientela, qualità che rendono il mercato di punta marina terme storicamente uno dei più soddisfacenti dei nostri libri. Parere quindi questo che l'amministrazione deve necessariamente assumere prima di procedere con l'eventuale spostamento, come previsto dall'articolo 7 della legge regionale 12 del 99 e dall'articolo 3 del vigente regolamento del commercio su aree pubbliche del Comune di Ravenna. Per quanto riguarda le motivazioni oggettive per cui non è possibile accogliere la richiesta del consigliere sono a ribadire come non sia possibile autorizzare un mercato in un'area che non sia adeguatamente pavimentata, pavimentazione della quale il parco attualmente però non è dotata, così come non è dotata dei servizi necessari, corrente elettrica, illuminazione, sistema di scuolo delle acque, per esempio. Condizioni queste che unite al fatto che in tratti consistenti l'area verde risulta posta ad una quota sensibilmente inferiore a quella della strada, renderebbero necessaria l'esecuzione di lavori molto importanti, onerosi, particolarmente invasivi ed economicamente rilevanti, per nulla sostenibili, ricordiamolo dal punto di vista ambientale. Infatti il taglio proposto di 10 metri di tutto il lato esterno del parco pubblico, che dovrebbe necessariamente essere effettuato per lasciare spazio alle bancarelle, ridurrebbe eccessivamente la dimensione del parco stesso, parco peraltro molto frequentato soprattutto nel periodo estivo, poiché è il luogo dove vengono svolte molte attività che rispondono ad una funzione sociale come la ginnastica per la terza età, le attività rivolte ai bambini, le iniziative organizzate dalla Proloco. Inoltre ai fini della tutela del verde e del rispetto della natura mi preme sensibilizzare il consigliere circa il fatto che anche l'occupazione dell'area con mezzi, veicoli, potrebbe comunque comportare gravi danni al verde presente, soprattutto agli alberi. Ricordiamo anche peraltro che nel 2019 è stato realizzato un intervento costato 37 mila euro, soldi dei contribuenti, soldi di tutti di noi, che ha portato all'installazione di nuove colonnine di elettrificazione che permettono agli ambulanti, questo subiale dei navigatori, che permettono agli ambulanti di fruire della fornitura elettrica per le loro attività in totale sicurezza, evitando così l'utilizzo dei generatori ed eliminando completamente l'emissione di CO2 e anche fastidiosi rumori. Le condizioni oggettive o stative rispetto allo spostamento del mercato in un parco pubblico unite alla contrarietà totale degli ambulanti di essere ricollocati, peraltro dopo 25 anni di esercizio nella sede dove sono attualmente, non possono consentire all'amministrazione di realizzare quello che lei consigliere propone. Nell'interrogazione inoltre lei attesta che l'attuale collocazione creerebbe disagio, un documento ai cittadini, a turisti, a commercianti, a quanto però ci risulta non sono mai pervenuti, esposti circa situazioni critiche inerenti all'attuale collocazione del mercato estivo di Punta Marina Terme, né all'ufficio di polizia commerciale né all'ufficio forese. Per quanto riguarda la riqualificazione di cui chiedete conto e che giustamente auspicate, e vado a concludere, le comunico che la Giunta ha già maturato l'intenzione di riqualificare, di migliorare, di valorizzare la località di Punta Marina Terme, località che risulta sempre più apprezzata da turisti in visita ai nostri lidi e che sta crescendo enormemente il suo appeal commerciale, immobiliare e turistico. E questo io credo anche grazie ai commercianti, quindi anche agli ambulanti che operano su aree pubbliche, che operano appunto in questa località. Grazie. Grazie Assessore, la parola torna a lei, Consigliere. Grazie, grazie Assessore. Prendiamo atto di quello che voi ci avete appunto adesso esposto, ma ci diceva prima appunto che non è possibile, poi si è corretta, non è possibile nell'immediato. Nulla è impossibile, specialmente se si parla di una cosa, diciamo, tra virgolette, contestualizzando, così piccola, ovvero una riqualificazione che poi già state pensando di fare per eventualmente ricollocare un mercato. Comunque ci riserviamo appunto di intraprendere una colta firme per verificare con mano se il sentimento, non lo dico in italiano perché in inglese non mi piaccia, davvero riportato colimico la realtà, ovvero che i commercianti, esercenti e anche i residenti, i villeggianti, comunque verificano, ci diano comunque una conferma appunto di quello che voi ci avete detto per capire bene appunto se ha senso continuare a combattere tra virgolette questa battaglia o rispettare appunto il volere di tutti quanti. Grazie. Procediamo ora con le proposte di deliberazione. Il primo e unico punto riguarda l'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2021. Passo quindi la parola all'assessora Molducci. Grazie Presidente. Ci approcciamo a quello che è l'ultimo adempimento assegnato al Consiglio Comunale relativo all'esercizio 2021. La proposta di deliberazione che oggi è sottoposta alla vostra discussione e poi alla votazione è stata illustrata in commissione consigliare competente con una completa relazione da parte del responsabile finanziario dell'ente, il Dottor Lubrano, che è qui con me, che ringrazio della sua presenza perché è disponibile a rispondere alle vostre eventuali domande più tecniche. Molto sinteticamente io mi approccio a questa relazione provvedendo a presentarvi il bilancio consolidato dell'esercizio 2021 del Comune di Ravenna del gruppo di amministrazioni pubbliche del suo perimetro. Prima cosa di rilievo da sottolineare è che è uno strumento informativo questo bilancio, è un adempimento sì obbligatorio per legge e la legge che lo disciplina prevede nel dettaglio anche tutti i meccanismi per redigerlo, ma la rilevanza per l'ente locale è appunto l'aspetto informativo perché attraverso questo bilancio consolidato si riesce a dare una fotografia della situazione economico, patrimoniale e finanziaria non solo del Comune di Ravenna ma del gruppo amministrazione pubblica che deve essere inteso come un'unica entità di cui fanno parte la capogruppo che è il Comune e gli organismi strumentali, ad esempio le nostre due istituzioni culturali che sono delle articolazioni organizzative del Comune, faccio riferimento all'istituzione biblioteca classense e museo d'arte della città, gli enti strumentali controllati e partecipati e le società controllate e partecipate che rientrano in una sfera di rilevanza per il Comune e che sono ricomprese nel cosiddetto perimetro di consolidamento. Questo perimetro di consolidamento viene determinato con una delibera e di cui vi dirò. Il fine che si prefigge questo bilancio consolidato è quello di dare una fotografia, una lettura trasparente della governance del Comune di Ravenna e del gruppo delle amministrazioni pubbliche. Il percorso di questo bilancio inizia con la determinazione di quello che è il gruppo di amministrazione pubblica, quindi il Comune e l'ente capogruppo e quali sono le società e gli enti che fanno parte appunto del perimetro di consolidamento e cui i bilanci saranno consolidati. È stata assunta una delibera di giunta comunale che ha individuato questo perimetro che è dato dalle seguenti società che sono Ravenna Holding S.P.A. e Lepida, Angelo Pescarini, Scuola Arti e Mestieri, AMR Società Consortile, LASP di Ravenna Cervia Russi, LACER che è l'azienda da Casa Emilia Romagna, la fondazione Ravenna Manifestazioni, la fondazione Ravenna Antica Parco archeologico di classe e la fondazione Toscanini. Poi vi sono le società che sono controllate o partecipate da Ravenna Holding S.P.A. che si consolidano attraverso il bilancio consolidato di Ravenna Holding. Le cito, sono Acer, Start, Ravenna Farmacia, Saphir, Azimut, Ravenna Entrate e Romagna Acque. Detto questo, la base di riferimento per la costruzione del bilancio consolidato è ovviamente il rendiconto che abbiamo approvato con delibera a consigliare il 3 maggio del 2021, rendiconto che teneva già al suo interno il consolidamento del rendiconto delle due istituzioni. per quanto riguarda il conto economico, il bilancio consolidato del gruppo si chiude con un risultato economico negativo e questo risultato negativo nella misura di 1.864.000 euro, un risultato che è in linea con il risultato del 2020 e è determinato da un incremento dell'accantonamento di quello che è nel bilancio consolidato e definito il fondo svalutazione crediti della comune di Ravenna per un importo pari a 23 milioni. Quando l'abbiamo visto nel rendiconto, vi dicevo che la base del consolidato è il rendiconto della gestione del 2021, questo incremento l'abbiamo visto ed è l'incremento del fondo crediti dubbia esigibilità che è appunto stato incrementato di questo pari importo e questo incide sul bilancio consolidato come il costo aggiuntivo. Per quanto riguarda invece lo stato patrimoniale, il bilancio consolidato del gruppo comune di Ravenna si chiude con un risultato del patrimonio netto per il comune 942 milioni erotti più integrato con le altre società di altri 140 milioni, quindi 1 miliardo e 82 milioni di euro. Anche questo abbastanza in linea rispetto al 2020. Scusate, 2020. Presidente, direi che con questo ho concluso. Vi ho già annoiati, vi vedo abbastanza. Grazie Assessora. Apro quindi la discussione. Ci sono interventi? Non ho interventi prenotati. Direi a questo punto di passare alle dichiarazioni di voto. Apro la dichiarazione di voto. Ancisi, in dichiarazione di voto. Noi siamo favorevoli a questa innovazione introdotta del bilancio consolidato degli enti pubblici e in particolar modo degli enti locali, perché in questo modo i cittadini possono conoscere la contabilità reale dei servizi che il comune eroga alla comunità locale, anche se gestiti da altri enti che dipendono da lui oppure gli sono collegati. Però i numeri che ci vengono messi finalmente a conoscenza sono dettati dalla matematica che non sono contestabili. Sono frutto di un lavoro incomiabile prodotto dal servizio tecnico finanziario, ma contiene dei dati che dimostrano nella loro abnormità la ragione del nostro voto contrario per una valutazione di carattere politico. Intanto il gruppo Comune di Vervene viene troppo pollato, composto di 32 organismi, 12 società di capitali, comprese quelle che sono parte di Ravenna Holding, ma che comunque rientrano anche nel bilancio consolidato del Comune, 4 enti strumentali, 2 istituzioni, 14 fondazioni. 14 di questi organismi, soprattutto fondazioni, sono escluse dal perimetro del bilancio consolidato perché sono ritenute statisticamente irrilevanti dal punto di vista contabile nei confronti dell'ente capogruppo che è il Comune di Vervene. Non che non contino niente, all'incirca un 10% in più potrebbero valere. Però limitiamoci ai 18 organismi monitorati dal bilancio del Comune di Ravenna, di cui 7 attraverso Ravenna Holding. Sono troppi, ne basterebbero un terzo, noi l'abbiamo sempre detto, ognuno comporta un carico, bisogna prendere anche quelle che sono società partecipate dalle nostre società partecipate, per esempio quelle della SAPI, ma mi auguro che almeno il prossimo anno ci sia anche l'ultima che hanno istituito. Quindi ogni società comporta un carico di apparati e di orpelli burocratici, se si riducessero, ripeto, ad un terzo, ne potremmo discutere, ci avrebbero risparmi e semplificazioni notevoli, però i soli costi del 2021 per gli amministratori e i revisori, cioè sono i costi politici, cioè di persone che sono scelte rigorosamente per me. Consigliere, la invito a concludere. Tra i partiti della maggioranza. Ho già passato i tre minuti? Sì, c'è il timer, guardi. Sì, se lo do a lui. I soli costi del 2021 per gli amministratori e i revisori scelte rigorosamente per me e dei politici, tra i partiti che governano il nostro territorio, sono stati pari a 50-60 mila euro, esclusi 212 mila euro spesi dal Comune per i propri. Pensavo di stare in tre minuti, il resto se lo affido al collega. Grazie, consigliere. Altre indichiarazioni di voto? Ercolani. Grazie, Presidente. Adesso, senza voler rubare, diciamo, quanto detto dal consigliere, mi aggancio a un elemento fondamentale che è uscito dalla valutazione e del quale credo abbiamo già discusso. Ma ci servono tutte queste partecipazioni? Perché io credo che qui il discorso, come ha detto il consigliere Ancisi, non è tanto il documento che per carità è un documento che va fatto, un documento tecnico corretto, formalmente corretto, ma è quante poltroni dobbiamo continuare a pagare con i soldi dei contribuenti. È questo l'elemento che io voglio sottolineare. Siamo sicuri che tutte queste spese siano necessarie per il funzionamento corretto del Comune di Ravenna. Io non sono d'accordo e questo è il motivo per il quale il mio gruppo si opporrà a questo documento e si opporrà feriamente e continuerà a lottare per una razionalizzazione delle partecipate che tenga conto dell'abbattimento dei costi, soprattutto per la dirigenza, per le poltrone nominate dalla maggioranza. e concludo. Voto contrato. Grazie consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Ferrero? Va bene, vai. A proposito della scarsità di fondi che viene spesso lamentata per giustificare omissioni di servizi. Basta osservare che il valore della produzione, cioè di quanto è stato materialmente prodotto nel 2021 a servizio dei cittadini, è stato di 314 milioni, con costi anche leggermente superiori. Questo per segnalare l'alto volume di denaro che l'anno scorso il potere politico del gruppo Comune di Ravenna ha potuto utilizzare e spargere in questa non grande città. Ancora più straordinario è che la chiusura dei conti a fine del 2021 ha registrato un avanzo di 123 milioni, di cui 7,7% utilizzabili liberamente. Nelle parti vincolate, per quanto esse stesse reali, spiccano se mai, imponendo una riflessione politica non da poco, i crediti di dubbi e esigibilità, cioè di incerta discussione, saliti ad 88 milioni rispetto ai 65 del 2020. Sono stati 111,9 milioni di euro i tributi versati nel bilancio consolidato del 2021 dei cittadini, oltre un terzo del valore della produzione rispetto ai 110 del 2020. In sostanza 2 milioni in più. Ci avevano assicurato che durante la pandemia le tasse non sarebbero cresciute. Nel 2021 il solo Comune di Ravenna ha speso 44 milioni per il proprio personale pari a 1.186 dipendenti. Abbiamo sempre detto che si dovrebbero conteggiare anche quelli che, pur impiegati nei servizi comunali, lavorano nei vari organismi del gruppo associato. Dal bilancio consolidato del 2021 lo sappiamo che sono costati 15 milioni quelli aggiuntivi di Ravenna Holding con le sue 7 società partecipate e 3 milioni quelli arruolati dal resto del gruppo. In tutto 62 milioni, in proporzione dei circa 485 risorse umane in più nascoste nei meandri burocratici del sottogoverno partecipato. Patrimonio miliardario. Nel 2021 la comunità ravennata ha messo a disposizione il gruppo del Comune di Ravenna per fare l'uso migliore un patrimonio netto di 1.082 milioni rispetto alla propria attività. Il capitale conteggiato è stato di 804 milioni di beni immobili, materiali e di 316 di partecipazioni finanziari o crediti a lungo termine. A fine dicembre 2021 il denaro in cassa, liquido o immediatamente liquidabile, è stato di 91,8 milioni. Eppure dicono che non ci sono i soldi. Questa qui è la parte relativa ad Ancisi. Vi ricordo sempre che è una dichiarazione di voto e quindi a un certo punto bisogna che esprimiate l'orientamento, perché altrimenti è un intervento. No, no, no. La Giunta non può neanche replicare. Per fare una cortesia al Consigliere Ancisi, la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia è ovviamente contrario, perché senza stare a ripetere quanto hanno già detto i colleghi, noi riteniamo che questo bilancio faccia capire una volta di più, come se non ce ne fosse bisogno, che gran parte delle spese per appunto del Comune di Ravenna potrebbero essere notevolmente ridotte se non ci fossero organismi pletorici che succhiano risorse, sempre andando a far beneficiare di questo tutta una serie di apparati sotto governo e via di seguito. Quindi il nostro voto non può che essere negativo e per questo motivo noi voteremo contro. Grazie. Consigliere, altre indichiarazioni? Perini? Ah no, Folli, Folli, Folli. Folli e poi Perini. No, è già partito il tuo tempo. Ah, scusa, allora, cerco di stringere molto, anche se è andato un po' a macchinetta Alberto Ferrero, quindi farò un po' fatica. Prima di tutto, finalmente i numeri di Ancisi non è per niente piaciuto, perché i numeri noi li abbiamo sempre dati nei termini e con la trasparenza necessaria, quindi queste affermazioni lasciano veramente il tempo che trovano in questa sede. Riguardo al consolidato, ricordiamo per l'ennesima volta che non parliamo di un consolidato di 32, a parte che il numero forse non è neanche corretto, comunque il consolidato è un esercizio che prevede l'inserimento di alcune partecipate, altre no, e viene fatta un'operazione di analisi dei dati economici relativi a questo gruppo di amministrazioni, quindi non al complesso. Per assurdo, riguardo al discorso della pletora di partecipate, diciamo che dal nostro punto di vista la presenza di partecipate che possono esprimere gradi di efficienza e di competenza specialistica nel fornire i servizi per la comunità fanno sì che anche il risultato di esercizio presente nel consolidato sia migliorato proprio grazie alla presenza delle partecipate che appunto dal nostro punto di vista sono un importante strumento per assicurare servizi efficaci ed efficienti alla comunità. Il fondo crediti è aumentato e a casa mia quando si aumenta un fondo crediti di dubbia esigibilità è un atteggiamento virtuoso, cioè è un atteggiamento che cerca di in qualche modo mettere al sicuro il comune da possibili problematiche derivanti dalla inesigibilità dei crediti. Questa cosa ovviamente ha un costo, un costo che negli ultimi anni è aumentato e che è in pratica uno dei principali responsabili del risultato d'esercizio che abbiamo detto essere negativo, anche se in linea con l'anno scorso, ricordando comunque sempre che abbiamo parlato di anni di covid e tutto il resto che non sto neanche a citare. Un altro punto è il tema del patrimonio netto, il patrimonio netto è buono, è un comune ben patrimonializzato, il che è positivo. La consigliere l'invito a concludere la dichiarazione di voto. Questo non vuol dire demagogico e molto semplicistico dire che la comunità ha messo dentro al comune questa cifra. Il patrimonio netto, e chi si occupa un po' di economia lo sa, è costituito da delle voci, da delle poste, fondo di dotazione, riserve, eccetera, quindi direi che dovremmo lasciare un po' perdere la facile demagogia, anche quella delle poltrone, e cercare di guardare un po' dentro i numeri. Grazie. Consigliere, lei ha già... Vedo, risponde per fatto personale, perché sono stato accusato di due cose che non ho detto, solo quelle. Quali accuse? Mi sembrava che la Fogli parlasse... No, ha citato Ancisi, ha citato Ancisi. Allora, solo due cose che non sono vere... Tre minuti, prego. No, anche meno, spero. Cioè, io non ho contestato a nessuno che ci siano stati negati dei dati, ma quelli sono dati nuovi. Cioè, il fenomeno lo conoscevamo, ma quello che ha comportato avere 32 società, in un qualche modo, facenti parte del gruppo... Ho detto del gruppo, non del bilancio consolidato. Ho anche chiarito perché una parte di queste è stata esclusa. Il gruppo comune di Ravenna, questi dati sul gruppo comune di Ravenna, per il numero dei componenti, e i dati del bilancio consolidato, sono dati innovativi rispetto a quelli che discutiamo qui, in Consiglio Comunale, tutti i giorni. E dimostrano quello che noi comunque già sapevamo di fatto. Questo per la precisione. Consigliera Folli, per replica. Sì, molto brevemente. Allora, io ho citato una frase, quando lei dice finalmente i numeri, è un tono che, diciamo, non mi è piaciuto perché i numeri sono sempre stati dati con il rendiconto, quello che abbiamo approvato. Questo ovviamente è un consolidato che è il risultato di, appunto, di un quadro di insieme del comune più le altre... Ancisi, dopo ha un minuto per replicare, se vuole. Lasci la consigliera a terminare il suo intervento. Però, ecco, è il termine con cui, appunto, si è esordito che non ci è piaciuto. Riguardo alle partecipate, penso di avere già detto quello che pensiamo. Per noi sono uno strumento che efficienta e rende più efficace il servizio offerto alla comunità. Ancisi, un minuto. Un attimo, Perini, spenga il microfono perché mi ero in... Finalmente, questa è la parola che va pesata, vuol dire che noi, qui in Consiglio Comunale, discutiamo del costo dei servizi che gestisce, del comune, che gestisce direttamente il comune di Ravenna. Adesso sappiamo che tanti servizi, dati ad altri, contribuiscono a far sì che il complesso dei servizi erogati dal comune di Ravenna costa quello che ci dimostra il bilancio consolidato, peraltro, neanche conteramente... Ancisi deve commentare sul fatto personale, non riaprire la discussione. Sì, su questo, finalmente. Che il bilancio consolidato è qualcosa che ci dà dei numeri in più e ci fa conoscere quanto i cittadini ricevono dal comune di Ravenna, attraverso anche le società collegate, quanto costano e anche quanto vengono pagate con i soldi della comunità. Tutto qui. Grazie, consigliere. Perini, prego. Chiedo scusa, ma all'amico capogruppo Ferrero, non ho capito, forse sotto l'ebrezza della vittoria hai dato dei numeri che non ho capito bene, forse ero là e non ho capito. 15 milioni spenderebbe il comune di Ravenna per il personale delle consociate. Ma quanti dipendenti hanno, scusa? Hanno un ministero. No, vabbè, no, volevo solo chiedere questo. Sono società inattivo, quindi sono stipendi che pagano direttamente le società, non certo il comune di Ravenna. Consigliere Ancisi, per cortesia, per cortesia, Perini continui il suo intervento. Finito, terminato, bene. Altre indichiarazioni di voto? Apriamo la votazione. Qual è che non lo vedo? Grazie. 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 Grazie a tutti. 19 voti a favore, 27 presenti, 27 votanti, 19 favorevoli, 8 contrari, tutti i gruppi dell'opposizione. Passiamo ora alle mozioni. Nel concorso di seduta è stato depositato anche l'ordine del giorno del gruppo Partito Democratico che tratterei congiuntamente. Quindi a lei la parola sulla mozione e poi chiedo a Bombardi di presentare l'ordine del giorno. Grazie Presidente, intanto mi scuso perché l'abbiamo ipotizzato di inviarla subito dopo la Commissione. Sfortunatamente fra i venti vari e altro ci è sfuggito l'invio, pensavamo di averla mandata, non l'avevamo mandata. Però non credo sia un problema visto che anche il PD ha presentato una mozione aggiornata sulla falsa riga della nostra perché non ne avevano mai presentate fino ad oggi. Almeno abbiamo stimolato la discussione sul tema agricoltura e abbiamo permesso anche, e lo dico grazie al Presidente Bonocore della Commissione 9, di discutere anche di siccità. Quindi sicuramente abbiamo imparato tutti, perlomeno chi era presente sul tema e questo è stato lo stimolo per tutti. Do lettura velocissima della mozione anche perché immagino che alla fine finirà tutto con la solita guerra, la vostra va bene, la nostra no. Quindi evito di perdere tempo ulteriore a fare chiacchiere, la leggiamo, la bocciate, votiamo la vostra e andiamo a casa. È la realtà dei fatti e ultimamente sono un po' stanco delle cose a caso, preferisco dire le cose come stanno, che magari anche i cittadini imparano come funziona il Consiglio Comunale. Siccome praticamente ormai è un anno che sono qui, non credo che sia mai stato approvato un documento presentato da me a prima firma, quindi insomma che lo sappiano anche loro, che non è che non facciamo la roba che propongo io, ma siete voi che non vi va bene. Sì oggi sono un po' polemico, scusatevi, giusto perché magari molti non lo sanno come funziona qui dentro. Premesso che l'attuale conflitto in Ucraina ha messo in maggiore e drammatica evidenza l'estrema debolezza del nostro Paese, sia sul fronte energetico che su quello dell'approvvigionamento di materie prime e anche alimentari, premesso che la situazione di pesante difficoltà per quasi tutti i settori economici e per le famiglie dopo due anni di emergenza sanitaria sia drammaticamente aggravata per il pesante incremento dei prezzi dei carburanti e dei costi dell'energia e delle materie prime, tra cui quelle alimentari, con il rischio reale di una periodo di queste ultime per il blocco delle importazioni, premesso che le recenti condizioni climatiche avverse hanno messo in evidenza le criticità legate alla siccità, evidenziando ancora di più la necessità di investimenti in infrastrutture, volte a ridurre i rischi della carenza di risorse idriche in futuro. Considerato che, secondo le date di ISMEA, Agenzia del Ministero delle Politiche Agricole, in Italia sarebbe a rischio la sicurezza alimentare, in quanto importiamo oltre la metà delle materie prime agricole. I pesanti rincari citati sopra, oltre a problematiche collegate al clima con le gelate primaverili, stanno mettendo in serie difficoltà aziende agricole e allevamenti, pregiudicando la sopravvivenza. A fronte del rischio di un periodo segnato da una crescente insicurezza alimentare, che per scongiurare un ulteriore aggravamento della situazione di aziende agricole e allevamenti, oggi da considerare indispensabili dal punto di vista strategico, è urgente ripensare alle politiche agricole del nostro Paese, sia nel breve che nel medio termine. Il Governo può prevedere iniziative nei brevi termini per dare un immediato sollevo finanziario alle aziende nel medio periodo, attivando politiche strategiche di sviluppo, per recuperare, almeno in parte, la sicurezza alimentare del Paese e collegamento tra la produzione agricola e allevamenti, anche per l'utilizzo della concimazione organica, per ripristinare le infrastrutture di stoccaggio che consentirebbero di poter contare su riserve strategiche, che ad oggi non superano i due mesi di autonomia, per prevedere filiere produttive agricole integrate alle nostre in Paesi esteri. Potrebbe rendersi necessario rivedere la nuova politica agricola comunitaria. Si chiede quindi al Sindaco e alla Giunta Comunale di impegnarsi nelle sedi opportune a promuovere misure urgenti di sostegno finanziario destinato a micro, piccole e medie imprese agricole, esotecniche per esposizione debitorie, eccettuate all'esposizione di creditizia deteriorata, nei confronti di banchi e altri soggetti abilitate alla concessione di credito. Richiedere prezzi calmerati per gasolio agricolo e contrasto all'agiotaggio, richiedere misure strategiche finalizzate dal sostegno di accordi internazionali per estendere le filiere agricoltura zootecnica e a bacini agricoli esteri, promuovere il potenziamento delle infrastrutture logistiche di stoccaggio italiane, promuovere ed informare sulle opportunità offerte dal PSRN e dal PNRR per le attività agricole, agevolare e sostenere progetti per la raccolta e stoccaggio di acqua, promuovere il contrasto alle specie infestanti, garantire il sostegno finanziario e le attività colpite. Vi ringrazio, scusate la velocità, ma come ho già detto non volevo rubare tempo ulteriore al Consiglio. Grazie consigliere, la parola a lei, consigliere Bombardi. Grazie, grazie Presidente. Allora, io intervengo presentando l'ordine del giorno che come gruppo nel Partito Democratico abbiamo scelto di presentare in corso di seduta, certamente a seguito della commissione che si è svolta lo scorso 12 settembre, una commissione che era nata per volontà dei colleghi della Lega che hanno scelto quando in Consiglio si presentò per la prima volta questa mozione di non discuterla, andare in commissione, affrontare meglio la tematica e anzitutto dare più respiro a una tematica presentata con una mozione di marzo, andata in discussione a giugno e con l'estate che tutti ci siamo resi conto come andava a svolgersi. Ora, a me dispiace umanamente che il collega sia stanco, stressato e possa avere qualche dimenticanza, ma una modifica di mozione caldeggiata, proposta, discussa eventualmente durante la commissione mi arriva sul tavolo due secondi prima dell'intervento calendarizzato, ecco, non potevo prevedere il futuro né essere un veggente, per cui a fronte della commissione, a fronte della conclusione della commissione dove non c'è stata la volontà manifesta e verbalizzata di ritirare il documento che si è discusso, di emendare il documento in quella sede o proporre delle modifiche a stretto giro, con la libertà che ci compete come gruppo consigliare e avendo partecipato in maniera attiva alla commissione in prima persona nella quale ho relazionato, abbiamo ritenuto di presentare un documento sulla tematica e l'abbiamo ritenuto in questa giornata perché il tema agricolo è un tema è un tema che riguarda la nostra realtà comunale perché come secondo Comune d'Italia abbiamo una rilevanza dal punto di vista agricolo e perché in discussione a una mozione che già in commissione avevo detto non poteva trovare il nostro accoglimento abbiamo ritenuto doveroso, visto che il tema era in trattazione, proporre un'alternativa al dibattito che ora vado a leggere. Attenzione e sostegno all'agricoltura e all'agroindustria sempre più in sofferenza anche a causa di siccità estiva, mancante di mano d'opera e costo dell'energia. Premesso che gli effetti del cambiamento climatico sono stati decisamente evidenti nell'estate appena trascorsa caratterizzata da una siccità tra le più critiche degli ultimi anni e che va a sommarsi alle criticità già emerse negli anni precedenti legate tra le altre alle forti gelate primaverili. Che dall'inizio del conflitto scatenato dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia assistiamo ad un'inarrestabile crisi dell'energia che colpisce diversi settori economici e tra questi certamente anche il settore agroalimentare con aumenti spropositati del costo di fertilizzanti, carburanti, energia elettrica necessario al funzionamento degli impianti di irrigazione ed agroindustriali. Mai come quest'anno le aziende agricole si sono trovate in estrema difficoltà nel reperimento di mano d'opera stagionale, lavoratrici e lavoratori, spesso stranieri, che sono fondamentali per la raccolta di frutta e verdura per la vendemmia e anche dell'industria agroalimentare che trasforma i nostri prodotti coltivati nel territorio da tutti riconosciuto come una delle eccellenze nel panorama agroalimentare italiano. Considerato che l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ha da poco approvato a larga maggioranza lo sviluppo rurale 23-27 che prevede uno stanziamento di quasi un miliardo di euro destinato di imprese agricole ed agroalimentari, che sarà declinato, oltre che al sostegno del reddito, anche a finanziare sviluppo dei territori, transizione verso una produzione sempre più sostenibile per l'ambiente con incentivi per l'agricoltura biologica e produzione integrata e che prevede investimenti fondamentali su formazione, ricerca, innovazione digitale, sempre più indispensabili per l'agricoltura di oggi e soprattutto di domani. Rilevato che, a seguito dell'esito chiaro delle elezioni politiche appena svolte, diverse tra le principali associazioni di categoria del mondo agricolo hanno già chiesto che non si perda tempo nel proseguire le azioni già attuate dal precedente governo perché il settore agroalimentare italiano necessita di interventi urgenti, secondo quanto già espresso nelle premesse del presente ordine del giorno, si invita il Sindaco e la Giunta ad attenzionare le competenti funzioni della Regione Emilia-Romagna e con queste farsi promotore nei confronti del nuovo governo di azioni concrete ed immediate a sostegno degli operatori del settore agricolo e agroalimentare, con particolare attenzione agli aspetti di utilizzo delle acque ai fini irrigui e alle tematiche energetiche, ricercando misure di contenimento dei costi dell'energia e di rapido snellimento delle procedure burocratiche nel settore delle energie rinnovabili, al fine di consentire, tra le altre, la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle superfici agricole non produttive, come ad esempio le coperture dei fabbricati di aziende agricole e industrie agroalimentari, nonché agli aspetti legati alla difficoltà di riferimento di lavoratrici e di lavoratori. Io non so se ho il tempo per un'ulteriore discussione. Altri quattro? Quattro minuti. Ok. Non ritengo personalmente di trovare grandi punti di sovrapposizione tra il testo che ho appena letto nel mio DG e la mozione originaria in discussione e in commissione o le modifiche proposte qualche tempo fa. Il documento che ho discusso e che porta la firma oltre la mia di alcuni miei colleghi del gruppo del PD parla di agricoltura, parla in premessa di problemi climatici dell'estate, ma focalizza decisamente in maniera diversa le attenzioni, le considerazioni e gli impegni che si chiedono al sindaco e alla giunta. Tra l'altro non è un documento esclusivamente nostro, ma se qualche altro consigliere o gruppo consigliare desideri mettere la firma su questo documento presentato oggi, trova il nostro pieno accoglimento. Detto questo, non è che si vuole a tutti i costi non votare qualcosa della minoranza e presentare un documento della maggioranza. Io ritengo che il tempo che si è dedicato alla discussione di questi argomenti in una commissione che tra l'altro ha visto una buona dialettica, uno scambio di un confronto e l'apprezzamento di tutti i presenti, perché sono io il primo a dire che è stato un bel momento di confronto, un momento in cui si sono apprese delle informazioni necessarie. L'intervento del Presidente del Consiglio di Bonifica ha permesso a noi consiglieri di fare il punto della situazione su come è stata la gestione idrica dell'acqua che il CER porta in Romagna per la gestione dei campi, quindi fatico a accettare la provocazione del collega che l'ho fatto apposta per respingere la mozione vostra e approvare la nostra. Ho ritenuto, visto che in questa seduta del Consiglio si tratta il tema dell'agricoltura a seguito della commissione fatta, che il documento in discussione, non trovando, come già in commissione avevo detto, gli elementi per una nostra espressione favorevole di parere, ho ritenuto necessario usare il momento nel quale si parla di agricoltura, che non è una tematica prettamente quotidiana nel Consiglio Comunale, per arricchire il risultato il dibattito con la nostra visione, con un documento secondo me più calato nell'attualità e più attinente al momento nel quale stiamo tutti vivendo. Grazie. Grazie consigliere. Apro la discussione. Consigliere Esposito. Grazie. In realtà la premessa che aveva fatto Giacomo Ercolani era più che legittima. Mi verrebbe da dire doverosa, dato il passato e dati gli ordini del giorno che la maggioranza di questo Consiglio ha sempre, sempre, sempre pretestuosamente rigettato, anche se non avevano alcun tipo di rilievo politico. Ora io sento che il consigliere della maggioranza ci dice no però eccetera. Leggo il titolo, anzi no, attenzione e sostegno all'agricoltura, mancanza di maldopera, costa dell'energia, siccità eccetera eccetera. Sono certo che il governo che avrà avrà modo di sistemare tanti problemi che si sono accavallati e che sono rimasti lì, lì, giacenti, inerti, senza che nessuno si preoccupasse di risolverli. Oggi questi problemi vengono richiamati. La siccità. Beh, quella c'è la mano del buon Dio. Quindi in qualche modo a quella poco possiamo rispondere. Come si sarebbe potuto fare? Con delle opere, ma andavano fatte prima, non quando arriva la siccità. Prima, invasi, canalizzazioni e quant'altro. Mancanza di mano d'opera. Beh, veramente, qui mi sembra di sparare sulla croce rossa, lo voglio dire. Amici, colleghi della maggioranza, lasciatemelo dire. Vi fate un autogol da soli. La mancanza di mano d'opera. C'è una sola, una ed una sola ragione. Il reddito di cittadinanza. O non lo sapete? Sapete cos'è, vero? Sapete cos'è. Sapete che ha prodotto dei danni enormi a questo paese. Io stesso conosco degli imprenditori che hanno alberghi a Milano Maritti. Non chissà in quale si perdono. Milano Maritti e c'è? Non trovano, non hanno trovato, forse hanno risolto queste state del personale. O addirittura qualcuno accedeva ai loro uffici chiedendo se poteva lavorare in nero così tratteneva anche il reddito di cittadinanza. Ma ormai quella è storia vecchia. Anche questo problema, sono certo, verrà risolto dal governo prossimo venturo. Costo dell'energia. È vero, la guerra in Ucraina ha creato dei problemi. Come negarlo? Però dimentichiamo che il costo dell'energia nella fattispecie, quello del gas, è gestito dalla borsa di Amsterdam che specula sul costo stesso. L'Eni, ad esempio, questo mi è stato detto da un ex funzionario, l'Eni ha dei contratti decennali, o aveva dei contratti decennali con la Russia, che stabilivano a priori per dieci anni il prezzo dell'energia. Quindi il prezzo non cambia per la guerra, cambia per la speculazione. Cosa avete fatto quando c'era il governo dei migliori? Il governo Draghi. Quello dei migliori. Ah, dimentico. Il governo dei migliori che... Come risolvere i problemi? Spegnete prima la luce. Fate la doccia un po' più fredda. Chiudete il termo. Mettetevi il cappotto. Se avete freddo. Mio Dio, veramente bisogna avere dei master, dei dottorati, dieci laureati. Ma è strano perché anche i miei nonni dicevano così. Oh, Gesù, erano laureati e non lo sapevo. Cioè avevano dei master, avevano dei dottorati. Perché mi dicevano non sprecare acqua, non sprecare energia, non sprecare elettricità. Erano i nonni dei migliori. Erano i nonni dei migliori. Nel senso dei migliori erano i nipoti, naturalmente, ma lo dico con un po' di immodestia. Davvero, tornando a noi, tornando a noi, come... Consigliere, la invito a concludere. Vado a finire, vado a completare, e mi associo totalmente al collega Ercolani, Ercolani, mi associo totalmente al collega Ercolani, nel ribadire, e non vorrei essere frainteso, ma non trovo altro termine, il fastidio di dover sempre discutere il buonismo della maggioranza su ogni cosa e far sembrare che qualunque argomento noi portiamo all'attenzione di questo Consiglio viene scartato per un motivo o per un'altra. Dopo è scontato che io questo non lo voterò. Prego. Grazie, consigliere. Consigliera Valbonesi? Esposito deve spegnere il microfono. Ha saltato tutto? Ah, ci sono io. Niente. Vengo io? Sì, sì, sì. Allora, Ferrero si... Ah, vabbè. No, no, deve togliere la prenotazione, così come... Ecco, ora si è riattivato. Intervengo per precisare in maniera più diretta quello che comunque ha ben detto il collega Bombardi. Spiego perché la dinamica di questo ordine del giorno e come è nato. Io ero presente in commissione. La commissione è stata apprezzata, nel senso che è stata una commissione estremamente interessante, che ci ha dato modo anche di riprendere e conoscere in maniera più approfondita a quella che è la politica sul nostro territorio, anche con la presenza del Presidente del Consorzio di Bonifica. Quello che è emerso in quella commissione è che chiaramente, e io l'ho detto in quell'occasione, la mozione presentata da Ercolani e a prima firma a Rolando era assolutamente non contestualizzata rispetto a questo territorio. Cioè questa è una mozione che all'aria di essere stata presa da un altro territorio, un altro consiglio territoriale di una qualsiasi altra regione d'Italia è trasportata qui. Questo per noi non ha nessun senso perché addirittura nel dispositivo si chiedono quelle che possono essere un programma di governo. Cosa interessa a noi fare qui sul territorio in questo Consiglio Comunale? Non fare questo, ma ci interessa andare a capire come portare a terra delle politiche regionali e nazionali rispetto alle esigenze del nostro tessuto imprenditoriale, agricolo e anche dell'industria agroalimentare che è molto importante. Addirittura in questo testo leggo che il sindaco dovrebbe chiedere di occuparsi delle piattaforme a livello logistico italiano, ma noi ci occuperemo delle nostre piattaforme logistiche, cosa che stiamo fra l'altro facendo con un progetto molto importante di sviluppo del porto di Ravenna. Quindi non è che a priori si va a bocciare quello che viene presentato dall'opposizione, si va a sostenere e a volte è anche successo anche nella scorsa consigliatura a sottoscrivere quello che viene presentato dall'opposizione se ha una caratterizzazione ed è strutturata in maniera consona rispetto a quello che è Ravenna. In questo documento, in questo ordine del giorno, è ben precisato qual è la linea che la Regione sta tenendo e qual è la linea che noi vorremmo fosse maggiormente portata e con forza per il sostegno di queste importantissime imprese. Se voi leggete le dichiarazioni che hanno fatto le associazioni di settore proprio in questi giorni, consegnandole al governo, quindi adesso sta a voi fare, dare risposte, vedrete che si ritrovano benissimo in questo documento, semplicemente perché noi invece che andare a fare la fotocopia di quello che è stato presentato chissà dove abbiamo ascoltato il nostro territorio e cerchiamo di dare delle risposte e stimolare delle politiche conseguenti ai fabbisogni che qui rileviamo. Grazie consigliera. Vasi? Grazie Presidente. Io intervengo per motivare comunque anche come gruppo del Partito Repubblicano il voto che verrà a seguito dei dispositivi proposti qui che ci troviamo ad affrontare. Noi abbiamo con grande attenzione affrontato il tema in Commissione, io c'ero e già allora ho posto diversi temi sui quali io mi trovavo. In alcuni sì d'accordo con Ercolani ma lo stesso in disaccordo su il luogo e il metodo utilizzato per proporli. Io mi congratulo con chi nell'ultima tornata elettorale ha avuto un risultato così grande, governerà questo Paese e avrà modo di svolgere questi punti che il consigliere Ercolani enuncia dentro questo dispositivo, perché un comune a mio parere dei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punti non può, secondo il mio punto di vista, svilupparne forse 1 o 2. Questo è per me il tema che non mi porta a votare questo dispositivo. Anzi trovo il dispositivo proposto dal consigliere Bombardi più basato su un qualcosa di concreto ottenibile sul territorio. Questo è il principio per il quale voto uno rispetto che l'altro. È chiaro che il settore dell'agricoltura ha vissuto dei momenti di difficoltà. Noi come Paese abbiamo sofferto quelle che erano le difficoltà dell'approvvigionamento dai Paesi esteri di grano, granaglie e altri alimenti che contribuivano anche agli allevamenti che sono un importante comparto della nostra Regione. Ma quel che voglio dire io è che richiedere prezzi calmerati per il gasolio agricolo e contrasto all'agiotaggio, promuovere il potenziamento delle infrastrutture logistiche di stoccaggio italiane, non ravennati, italiane, è sicuramente un buon principio, ci mancherebbe. Sono il primo a credere che certe cose debbano essere fatte e costruite su un'ottica di futuro, ma sono cose che a mio parere spettano a un governo. Quindi di conseguenza buon lavoro, venti in poppa e se questi sono i presupposti per farvi lavorare su questi temi proposti dai colleghi Rolando e Ercolani, io non posso che dire continuate, lavorateci sopra, però non è una dimensione locale che può lavorare su questo percorso. Questo è quello che io credo nell'ambito dell'agricoltura, poiché l'agricoltura è un qualcosa che viene normato da bandi finanziamenti europei, da bandi finanziamenti regionali. L'ottica locale serve comunque a costruire un percorso per gli agricoltori che li mettono nella strada giusta per accedere a quei bandi e a quei finanziamenti. E questo è quello che io penso nell'ottica del voto di questi due dispositivi, uno che è sovraordinato rispetto a quello che sono le capacità di poter agire di un comune e l'altro invece che riguarda un'ottica più locale, una dimensione che è realizzabile e che vede coinvolti enti e fa partecipare persone delle amministrazioni che hanno quindi la possibilità più incisiva di essere motivo di cambiamento per l'agricoltura del nostro territorio. Avrei Ferrero prima di lei perché era l'ordine delle pronotazioni di prima. Grazie. Grazie Presidente. Io non faccio parte della commissione in cui si è discusso quindi determinate dinamiche, non le ho potute, non le ho, non sono a conoscenza di determinate dinamiche, tuttavia non posso non vedere che spesso e volentieri è, come si può dire, è abitudine della maggioranza di presentare nel giorno in cui viene discusso una mozione, un ordine del giorno dell'opposizione, un dispositivo analogo e poi addurre tutta una serie di argomentazioni a sostegno del fatto che il dispositivo dell'opposizione non può essere votato per tutta una serie di motivi mentre il proprio, quello che loro propongono, invece va a toccare determinati punti che guarda caso quello dell'opposizione non tocche e di conseguenza il loro è votabile mentre quello dell'opposizione è invotabile perché concettualmente errato. Allora io ho ascoltato i colleghi consiglieri sostenere che la mozione presentata dai colleghi Ercolani e Rolando non è votabile perché tratta di argomenti di natura nazionale, però non credo di poter essere smentito, sono stati discussi dispositivi analoghi da parte della maggioranza e anche quelli trattavano di argomentazioni di natura nazionale. Voglio dire addirittura quello che a breve verrà discusso, proposto dal consigliere Schiano, parla addirittura di spingere su una determinata legge che dovrà essere addirittura approvata a livello nazionale, quindi più nazionale di quello. Quello che tuttavia ravvedo e me ne dispiaccio è che argomenti come questi, vale a dire l'agricoltura, l'agricoltura che cos'è? È ciò che ci dà da mangiare perché tutto il resto sono chiacchiere, l'agricoltura è ciò che ci dà da mangiare. Noi sappiamo benissimo che l'agricoltura in questi mesi, forse anni, anzi in questi anni è in fortissima difficoltà e su un argomento di vitale importanza perché è quello, ripeto, che ci dà da mangiare, tutto il resto sono solo chiacchiere, solo conversazione. Ci sia una mozione dell'opposizione, uno della maggioranza, quando a rigordi logica forse con un minimo di buona volontà si sarebbe potuto trovare il modo per presentarne uno, uno congiunto. Quindi io non lo so se sia possibile, poi non dipende da me, è un auspicio. Se magari venissero ritirate entrambi e magari ripresentata fra qualche giorno e farne una unica, secondo me sarebbe un ottimo modo, sarebbe un segnale fortissimo che l'intera politica ravennata darebbe a questo comparto molto importante. Il mio è un auspicio, poi per carità non sono io che l'ho presentato, mi interessa anche relativamente, però comunque sia, dono quest'idea a questa assise che ne faccia quel che vuole. Consigliere Rolando. Grazie Presidente. Dunque, giusto per fare chiarezza per chi ci ascolta da casa, visto che comunque la memoria mi sa che da questa parte qua a volte c'è, a volte svanisce. La piena disponibilità di emendare, modificare il dispositivo c'è sempre stata, c'è stata anche nell'ultima volta che si è parlato del dispositivo, nell'HP gruppo. Porta aperte, gli emendamenti li riceviamo, ne discutiamo, qualcuno ha ricevuto la chiamata? Non abbiamo ricevuto nessuna chiamata. Adesso andiamo a attaccare che il dispositivo, per mia colpa, lo ammetto perché con tutto il volume di roba mi è sfuggita da depositarlo, ho depositato il ritardo, che poi cambia la forma ma non la sostanza. Ci vogliamo attaccare qua? Ma poi, voglio dire, con quale faccia, di nuovo, sentire la narrativa a noi che parliamo, trattiamo di temi nazionali, quando siete voi che addirittura fatti il tifo per le nazioni in geopolitica, che vi freggiate sempre di dittatori, di invasori e quant'altro che per quattro volte, minimo mi sembra, quattro volte, cinque volte avete presentato documenti geopolitici al quali mi sono sempre smincolato, rimasto neutrale. Adesso voi ci volete fare la lezione che presentiamo un tema, perché non si può votare, è un tema che va comunque a favore dell'agricoltura e si ingrandisce comunque, ovviamente ambiziosamente, a parlare di temi nazionali. Qual è il problema? Cioè, qual è il problema? Ma la cosa che più mi secca, che ci secca, è che siamo sempre al gioco delle tre carte. Presentiamo il documento noi, poi dopo avviene una serie di movimenti, sta di fatto che il giorno, una settimana prima, il giorno stesso, viene fuori che il documento fatto dall'opotezione non verrà votato per le super c sole che ogni volta vengono inventate, ovviamente con la maggioranza vi votate il vostro bel dispositivo di propaganda, cambiamenti climatici, invasioni e quant'altro, ve lo votate voi, siete contenti? Fine dei giochi, comunque chi ci ascolta da casa sa che questo è il giochino che ogni volta noi veniamo qui a vedere. Bellissimo, grazie. Consigliere Schiano. Grazie, Presidente. Beh, non poteva mancare la prevedibile, insensata e smentibile critica della minoranza al reddito di cittadinanza. Mi tocca intervenire, non l'avrei fatto l'intervento, però mi ci hanno tirato per i capelli. Perché si sa, ciclicamente qualcuno si sveglia e decide di attaccare il reddito di cittadinanza. La misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, che ha contribuito in maniera determinante alla tenuta sociale del Paese durante la pandemia, ha salvato 1,5 milioni di poveri, dalla povertà totale. Ma le invettive dell'opposizione contro il reddito di cittadinanza non è che mi sorprendano. Del resto è difficile aspettarsi qualcos'altro da chi ha proposto di dirottare le risorse destinate alle famiglie più povere d'Italia per aumentare le spese militari. Oppure da chi ha magnificato Paesi come l'Arabia Saudita, dove circa il 76% della forza lavoro è composta da lavoratori stranieri soggetti ad abusi e sfruttamento. E ha detto che i giovani devono soffrire. L'hanno detto loro, sto citando le loro parole. In fin dei conti, si sa, le forze come Fratelli d'Italia e Lega sono così, forti con i deboli e molto sensibili con chi invece ha degli interessi già che contano e tanto. I numeri e gli studi hanno ampiamente dimostrato che il reddito di cittadinanza è stato e continua ad essere fondamentale. Ce lo dice anche l'Europa adesso, ve lo dice visto che sarete al Governo, ve lo dice anche l'Europa. Ma del resto adesso mi viene da dire l'opposizione, Fratelli d'Italia ha detto che ci sono imprenditori che non trovano lavoratori e preferiscono il reddito di cittadinanza all'andare a lavorare. Allora mi dico, facciamo un ragionamento molto spicciolo, non è il caso di rivedere il salario allora? Perché se è vero quello che state dicendo vuol dire che non è adeguato il salario che propongono. Oppure c'è qualcos'altro? Andiamo a vedere i dati, visto che io non amo parlare per slogan, ma voi sì, io non li amo gli slogan, voglio i dati. Allora dico, i numeri e gli studi hanno ampiamente dimostrato che il reddito continua ad essere fondamentale per centinaia e migliaia di persone. Da ottobre 2021 era percepito da 1,22 milioni di nuclei familiari con un importo medio di 575 euro, mentre la pensione di cittadinanza era percepita da 139 mila nuclei per una media di 257 euro. Chi lo attacca è una fozione politica che vuole vedere a fascia i cittadini già sotto la soglia di povertà ancora più poveri e che per farlo si basa su altri slogan e non sui dati, ma adesso i dati ve li dico io. Mi dispiace che siano scappati dall'aula, mi sarebbe piaciuto dirgli la verità, però si sa la verità fa male ed è bello raccontarsi le favole. Non tutti, qualcuno è rimasto, ha ragione anche il nostro consigliere. Allora, visto che siamo alla fine di una stagione estiva, ci tengo a smentirli con i dati, quello che avete detto. In provincia, parliamo della provincia di Ravenna, nel 2020 il numero di persone che percepevano il reddito di cittadinanza erano 9.292 per un importo medio di 471 euro, mentre nel 2021 le persone coinvolte nella percezione del reddito erano scese a 99 unità, cioè 9.193 per un importo medio mensile di 469 euro. Il trend è in diminuzione anche per quest'anno, questo ci dimostra che la gente non vuole percepire il reddito, vuole lavorare, altrimenti avrebbero fatto quello che dite voi. E poi se ci sono illeciti, se gli imprenditori notano degli illeciti e c'è gente che ti chiede di percepire il reddito e lavorare, vi dovete denunciare, vanno denunciati non sui giornali come fanno molti imprenditori, che si fanno belli, no, fatemi vedere anche quanto gli chiedete, quanto gli date di stipendio, questo dovete dire, denunciateli, lo invito io che sono del Movimento 5 Stelle a denunciarli. Comunque, la difficoltà è di trovare i lavoratori stagionali o sta nel fatto che queste persone vengono pagate una miseria e spesso senza tutele, visto che le avete tirate in ballo voi di Fratelli d'Italia. Invece di fare questa propaganda contro il reddito di cittadinanza, diamoci, anzi, datevi un impegno verso i cittadini, promuovete il salario minimo, così magari queste tutele che vengono a mancare si andranno a formare. Grazie. Donatti, consigliere Donatti, lei ha la parola. Sì, grazie Presidente. Mi preme intervenire, giusto perché quando sento dire che gli imprenditori denunciano, gli imprenditori dicano, facciano. Ovviamente, io che non sono un abitué di questo tipo di consessi, questo teatrino dell'ordine del giorno, coperto da un ordine del giorno e questa discussione, onestamente, sono discussioni, non ho partecipato perché non sono consigliere nella Commissione, quindi magari mi manca qualche dato. Secondo me sono votabili entrambi, nel senso che lavorano su due livelli differenti, ne state parlando e quindi è chiaro che sono appelli alle amministrazioni locali o alle amministrazioni nazionali, chiedendosi poi, sì certo, qui si dice ad attenzionare le competenti funzioni e farsi promuovere il comune del nuovo governo, senza dimenticare che il vecchio governo che è ancora in carica, vecchio tra virgolette, ha governato per un diverso tempo e non mi è sembrato di vedere lo stesso tipo di interesse o comunque lo stesso tipo di necessità di richiesta, perché gli agricoltori, se hanno delle esigenze, stanno gridando per le loro esigenze, non credo abbiamo cominciato a farlo il giorno dopo questa votazione, quindi lo facevano anche prima, quindi il problema c'era anche prima. Adesso c'è un nuovo governo, vedremo quello che faranno. Reddito di cittadinanza. Io ho perso due collaboratori, ai quali avevo proposto un contratto a tempo indeterminato, dopo un periodo di prova e mi è stato detto che preferivano, avendo trovato un lavoretto in nero che li occupava il sabato e la domenica, accoppiato il reddito di cittadinanza, prendevano 150 euro in meno di quello che davo io, io pago quello che mi dice il contratto collettivo nazionale di lavoro, che prevede che io paghi un tanto all'ora, io prevedo che paghi 13esima, 14esima, 108 ore di permesso all'anno, 26 giorni di ferie, io denuncio della gente che sta con 1.400 euro, hanno solo deciso di starsene a casa per i fatti loro, poi con me hanno detto così, fanno così? Non lo so, però con me hanno detto preferiamo rifiutare la tua proposta di lavoro a tempo, ne avevo tre, una è adesso a tempo indeterminato e l'altra è preferito cambiare il registro. Una delle due le ho incontrate, non sono più tanto contente, ma il problema della reddito di cittadinanza sta diventando un problema di voto di scambio, sapete perché? Non perché, basta che tu guardi il colore di dove il Movimento 5 Stelle ha preso un X per cento, è voto di scambio. Consiglieri per cortesia, Donati prego concluda il suo intervento. Con lui possiamo parlare, è voto di scambio, diventa voto di scambio. Consiglieri per cortesia, e poi finisco, ma non è un voto di scambio perché sbaglia il governo, è un voto di scambio perché questo paese probabilmente nella sua cittadinanza non è ancora abituata a registrare, ad avere comportamenti, perché il problema vero è questo, ragazzi potete cambiare tutti i governi che volete, se non ci mettiamo in testa che il primo governatore di se stesso è il cittadino e se il cittadino non ci mette in testa di pagare le tasse e fare le cose come le hanno fatte, noi possiamo cambiare tutti i governi che volete, non ne verremo mai a capo, non ne verremo mai a capo se non c'è la collaborazione del cittadino. Dico l'ultima cosa, perché non ha funzionato, perché non funziona il reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza non ti chiede nulla indietro, perché non funzionano gli uffici di collocamento nel lavoro, allora prima di fare il reddito di cittadinanza andava fatto una revisione completa di come funzionano gli uffici del lavoro. Però consigliere Schiano, la prego, lei può o richiedere un altro intervento perché ne ha facoltà oppure lasci terminare il consigliere Schiano. Quindi il problema è a monte, poi il reddito di cittadinanza si deve autare le persone che non hanno il reddito o che sono completamente in difficoltà, va benissimo, ma è necessario trovare tutti quei furbi che del reddito di cittadinanza hanno approfittato. E basta un furbo per sputtanarne cento di persone oneste, lo so bene, perché io faccio l'albergatore e basta un albergatore disonesto che ci sputtane in cento, oltre a essere il nostro peggior nemico. Però vi richiamo a usare un linguaggio rispettoso dell'Aula. Mi scusi, ho finito. Non ho altri consiglieri? Perini. Però chiedo su questo argomento dell'ordine del giorno, è un argomento che non entro nella questione della cittadinanza, ci mancherebbe, Dio me ne guardi, però sulla questione dell'ordine del giorno, che come molti ordini del giorno anch'io ne ho fatti, che nulla a volte hanno a che fare non tanto con la nostra comunità, ma non è una decisione che dovremo prendere noi. Io vorrei chiedere agli amici però della minoranza che tutte le volte che c'è un'ordine del giorno che loro presentano, la maggioranza ha tutti i diritti di formularne un altro e di votare il proprio. Questo si chiama democrazia. In Parlamento succede spesso. Adesso voi andrete a governare, le opposizioni faranno gli ordini del giorno, voi ne formulerete altri e voterete il vostro. Questa è una cosa normale, non riesco a capire che cosa ci sia di scandalo. Voi farete altri ordini del giorno e noi ne faremo altri e voteremo il nostro. Ma che problema c'è? Ma che problema c'è? Ma cosa dici? Ma cosa dici? Se tu hai i numeri... Consiglieri per cortesia. Ma è sempre stato così. Perini continui per cortesia il suo intervento. Ma è difficile, dopo per il filo del discorso. Quindi succederà ancora per i prossimi quattro anni e mezzo che staremo qui in Consiglio Comunale. Quindi se tutte le volte tirate fuori sta cosa, poi rifacciamo sempre lo stesso discorso. Quindi la prossima settimana noi faremo, che ne so, un'ordine del giorno sulle bollette, che aspetta il governo possono ridurle. E quindi ne farete uno anche voi. Noi voteremo il nostro e voi voterete il vostro. Se avrete la maggioranza, quel giorno lì si ammalano un gruppo di consiglieri nostri e passa il vostro. Cioè che i discorsi sono? Cioè non riesco a capire. Non riesco a capire. Abbiamo fatto degli ordini del giorno insieme sull'Ucraina perché c'era un motivo, dal punto di vista anche ideologico, importante. Ma su queste questioni pratiche il nostro è un territorio naturalmente anche agricolo, avendo un territorio vasto, è un argomento che interessa sia la maggioranza che la minoranza. Ognuno vota il suo documento. Che problema c'è a livello democratico? Questo succede in tutti i consigli comunali, succede in tutti, nei due rami del Parlamento, in tutti i paesi democratici del mondo. Consigliere Bonocore. Grazie Presidente. Due cose veloci perché mi sono un attimo perso. Perché abbiamo avuto una commissione molto interessante, molto proattiva, molto edificante. Hanno partecipato tutti i gruppi e poi invece arriviamo in consiglio e siamo arrivati a parlare di tutti gli argomenti possibili e immaginabili e forse ci siamo persi un po' nel succo della mozione. Forse trascinati dall'onda lunga della campagna elettorale, siamo tutti o tutti i gruppi che hanno partecipato alla campagna elettorale, sono ancora così, sull'onda emotiva. E quindi ognuno ha portato avanti i suoi argomenti, trascurando, almeno per qualche, tolto qualche intervento, il contenuto della mozione. Allora, onore del vero, in commissione, poi il giovane Ercolani, mi correggerà se sbaglio, ma la sua inossità intellettuale lo contraddistingue, si era parlato di non ritirare la mozione, ma riconoscendo lo stesso proponente che la mozione era un po' articolata su argomenti e impostata in maniera non precisamente consone, o perlomeno aveva dichiarato che avrebbe rivisto la mozione, magari chiedendo la covaluazione di tutti i gruppi consigliari. Io credo che questo, considerando che la mozione è modificata a memoria molto poco rispetto all'originale che ci è pervenuta tre secondi fa, io non voglio giustificare gli atteggiamenti, come si dice, della mozione e della contromozione. Però mi sembra che il consigliere Bombardi non trovando soluzione rispetto alle cose che ci eravamo detto in commissione, magari l'avrebbe fatto lo stesso, fatemi dire, l'avrebbe fatto lo stesso. Però mai come questa volta diciamo che è giustificato dal fatto di aver proposto una mozione che non trovava altre alternative rispetto a quello che era scaturito dalla commissione. Quindi, considerando anche che gli argomenti trattati dalla mozione rivista dai consiglieri della Lega non si distacca molto dall'originale, io credo che, come diceva anche il consigliere Orlando, forse è sfuggito tra i mille impegni o è arrivato a lungo, diciamo che sicuramente questa è una mozione ma detta da voi che è poco votabile per i suoi contenuti. Ma questo, ripeto, quello che più o meno è venuto fuori dal vostro gruppo in commissione. Grazie. Grazie consiglieri. Non ho altre prenotazioni. Quindi passo la parola a Ercolani per replica. Poi abbiamo anche... Ringrazio. Sì, e poi cinque minuti anche a bombarti. Quindi quanto tempo ho? Cinque minuti? No, no, lei ne ha di più perché ne ha venti. No, beh, sono tranquilli, non li usano a tutti, nel senso non voglio tediarvi. Ah, ringrazio innanzitutto il consigliere Bonocore per l'attestazione di stima e io comunque mi scuso nel senso che sono cosciente che la metodologia con il quale è stata presentata questa mozione all'ultimo non è certamente, diciamo, come dire, non aiuta il dibattito, non aiuta la preparazione però, ripeto anche, come ha detto poi il mio capigruppo, che era presente in capigruppo che era stata lasciata aperta alla porta emendamenti della precedente, quindi eventuali emendamenti sarebbero poi essere potuti integrati anche qui, però non sono pervenuti. Cioè, questo è un elemento che deve essere sottolineato e deve essere chiaro a tutti. Cioè, perché avete presentato, giustamente come dice Perini, siamo in democrazia e non lo presenta il suo documento. Quello che non piace e forse mi scuso se prima l'ho detto un po' così scherzando, era giusto per non creare dei toni, diciamo, difficili e accattivirsi, era semplicemente quello che ogni volta che si presenta un documento capita. Nella correttezza della democrazia che vi sia subito la presentazione di un documento alternativo, quando comunque sia, si potrebbe perlomeno un attimo riconoscere magari l'iniziativa su un determinato tema e proporre degli emendamenti migliorativi. Poi, nel momento in cui si vede che dalla nostra parte o dalla parte di chiunque non c'è la volontà di aprirsi a queste modifiche, allora si procede tranquillamente con la presentazione dell'altro documento e a quel punto è anche chiaro che io o chiunque altro dell'opposizione non possa lamentarsi di nulla. Mi dispiace che se sia usciti molto dal tema, tirando fuori elementi forse non del tutto attinenti, però ripeto, siamo qui, siamo in democrazia, ognuno dice quello che pensa sia giusto dire, anche perché i cittadini ci vogliono qui per esprimere la nostra opinione, se uno ritiene che sia corretto o meno. Ecco, io voglio sottolineare un elemento forse legato a quello che è il lavoro. Si parlava di reddito di cittadinanza, persone che non vogliono ramorare. Io voglio fare un commento non tanto politico quanto da economista, un elemento forse di riflessione per tutti. Aumentare i salari significa aumentare la disoccupazione. Cioè, questo non l'ho detto io, lo dice la scienza. Quindi rendiamoci conto che quando ragioniamo su un salario minimo stiamo anche dicendo che siamo disposti ad aumentare la disoccupazione del nostro Paese. Questo è un dato scientifico inconfutabile derivante dallo studio dell'economia. E lo dico da, se posso vantarmi un secondo, Presidente, sono neodottore in economia. Ancora 18 minuti, puoi fare quello che vuoi. Detto ciò, l'altra cosa, giustamente mi si dice, questo documento non è perfettamente attinente con quelli che sono i compiti di un comune, di un'amministrazione comunale, ma è anche vero che in passato e in futuro, come anticipava il consigliere Perini, abbiamo votato e voteremo documenti che forse ci entrano ancora meno rispetto a questo, con quello che facciamo qui in comune, con quello che è il lavoro degli assessori. Forse ecco, quella è un'accusa che si può anche evitare, perché nel senso l'ho fatto io, lo avete fatto voi e lo rifaremo entrambi senza problemi, ma perché, ripeto, siamo qui anche per promuovere delle idee, non solo dei fatti concreti, io credo. Soprattutto noi lottiamo per le idee se siamo qui, siamo tutti persone che credono convintamente in una direzione che il Paese, la Regione o il Comune devono prendere. Io non vi tedo oltre, perché veramente, ripeto, direi le cose che ho già detto, farei i soliti discorsi, vi chiedo però un atto come dire di buona volontà. Sediamoci un attimo, Igor, mettiamoci al tavolo e facciamo un documento unico, ma sediamoci, rubiamo dieci minuti al Consiglio, guarda, avrei venti minuti di intervento, ne prendiamo dieci per scrivere un documento unico che vada bene a tutti. Lo fai te la prima firma? Io non ho problemi, perché a me interessa far passare il messaggio che la politica è vicina all'agricoltura. Io sono veramente disposto a, guarda, sediamoci, ragioniamoci, perché no? Io ecco, lascio giusto questa apertura e ovviamente lascio anche un'altra apertura, che è quella che poi è stata fatta in capigruppo e spero sia stata comunicata dai vari gruppi ai componenti dei vari gruppi, che è quella che noi siamo qui, se chiunque voglia proporre una modifica, chiunque voglia sottoscrivere il documento, è il benvenuto di qualunque gruppo. Non è una mozione politica, signori, sono problemi che vivono tutti, agricoltori di destra e di sinistra, qui l'idea è supportare una direzione. Sfortunatamente, come dite voi, c'è poco di concreto che arriverà fino in fondo, perché, ripeto, siamo un piccolo comune, non possiamo decidere quasi nulla, ma possiamo chiedere al nostro sindaco di farsi portavoce di istanze importanti, istanze che possono essere ascoltate in sedi dove si possono prendere decisioni. Ricordiamoci che De Pasquale è anche presidente delle province italiane, ricopre un ruolo fondamentale. Io concludo veramente, però lancio di nuovo questo invito al consigliere Bombardi per sederci un attimo in tavolo e trovare un accordo. Ripeto, con tutta la buona volontà di lasciare a questo punto la prima firma per l'appunto al PD. Bombardi, a lei la parola. Cinque minuti. Grazie presidente. Cercherò di usare i miei minuti per dire tutto quello che ho bisogno di dire. Grazie collega. Allora, il fatto della polemica, della critica al metodo trova il tempo che trova, perché a giugno si è presentata questa mozione in discussione in consiglio e non c'era una contromozione o un controordine del giorno del PD a giugno, perché nell'elenco di lavori si parlava di agricoltura. Quindi non ci sta oggi la polemica che è stata sollevata. Eravamo pronti a discutere nel merito ed eravamo pronti a fare tutte le critiche che in commissione io ho fatto e non ne ho risparmiata nessuna. Gli emendamenti al vostro testo sarebbero da stravolgerlo dal nostro punto di vista perché non troviamo nessun tipo di richiesta congeniale nella forma e nella tipologia di richiesta a un nostro voto. Non a caso la natura delle richieste, la tipologia e il modo con cui intendiamo affrontare questo tema, questo consesso, è espresso nell'ordine del giorno che ho scritto. Ho scritto l'ordine del giorno perché in commissione abbiamo chiuso con parere non contrario ma di apertura in consiglio. Ci troviamo nell'elenco di lavori lo stesso documento con lo stesso protocollo di marzo e quindi io dico, la volontà di emendare non è arrivata neanche dalla parte dei proponenti che in commissione avevano ammesso che il testo aveva dei limiti. Quindi l'eventuale responsabilità di chi non ha fatto partire gli emendamenti è eventualmente bipartisan. Ma ripeto, nel caso volessimo emendare il documento non basterebbero dieci minuti, collega, perché dal nostro punto di vista è da stravolgere e nelle premesse e nelle richieste. perché si è tolta una parte che per fortuna la commissione ha dato un esito perché la parte quella più pittoresca, lasciatemi usare questo termine, di richieste che andavano anche a dire quale tipo di cereale era meglio seminare in Italia perché il sorgo non consuma più acqua rispetto agli altri, quantomeno è stata stralciata e ne do atto che la commissione ha dato un esito che è quello di rivedere un po' nella materia tecnica il tutto. Ma anche la discussione di oggi non ha posto l'accento sull'agricoltura, non ha posto l'accento sul cosa vogliamo fare per il settore agricolo. Si è parlato di problematiche legate al reddito di cittadinanza, il tema della mano d'opera l'ho introdotto col mio documento, non se ne è parlato, non è stato neanche aggiunto nelle vostre modifiche, arrivate, abbiamo capito per quale motivo poco tempo fa, ma è un tema è un tema che esiste e non è per il reddito di cittadinanza, è perché in parte i flussi di lavoratori organizzati che venivano da altri paesi stagionali per dei picchi di lavoro che in Emilia Romagna, in Romagna, in Comune di Ravenna coincidono con la raccolta della frutta, con la vendemmia, con le culture industriali, si sono interrotti, ci sono dinamiche che non sono più in essere e questo è un problema. Il documento vostro non ne parla, non è neanche stato modificato in tal senso, era un ulteriore elemento da mettere. Per cui il tema agricolo mi viene da pensare che non interessi poi in maniera così ampia, così tecnica, così approfondita a tutti i consiglieri di questa assise, ma sia un vessillo, una bandierina per dire ne abbiamo parlato noi, loro ci vogliono dare addosso e adesso noi ci lamentiamo. Abbiamo fatto una discussione non sulle motivazioni del perché il mio ordine del giorno, prevedeva alcuni temi eccetera, ma si è sbordato in tante altre tematiche. Avete delle motivazioni agricole, avete delle tematiche del settore, delle conoscenze tecniche? Io ho inserito gli elementi della nuova programmazione regionale che sono il fulcro sul quale vengono veicolate le politiche europee. Nel vostro documento ancora c'è scritto potrebbe rendersi necessario rivedere la nuova politica dell'area comunitaria. Non è possibile, siamo già in una fase procedurale avvantata, l'assemblea di Emilia Romagna ha già votato il piano quinquennale e non si va a chiedere di rivedere la politica agricola comune dal comune di Ravenna due giorni dopo che è stata già accolta dall'assemblea regionale. Quindi io non credo che ci siano gli elementi ad oggi dopo tutto quello che è stato già detto per fermarci e trovare un documento condiviso. Ferrero ha ragione, non era in commissione, magari gli mancava qualche elemento. In commissione è stato detto di tentare un testo condiviso, è stato detto di lavorare su un documento congiunto nell'immediato. Io non ricordo però questa volontà manifesta, immediata, di lavorare sul documento. Anzi, c'è stata un'eventuale tiepida possibilità di apertura, non era neanche presente Rolando, era solo collegato, quindi dobbiamo emendare un documento? Lo emendiamo sul momento, ci prendiamo del tempo, ci sentiamo i giorni dopo se c'è l'intenzione di far passare un documento. E non è neanche una questione di firma, per Colani, non è una questione di firma se vogliamo andare a dare un contributo al nostro territorio. I fatti sono da leggere in questa maniera, a mio avviso. C'è stato un percorso appropriato per il documento e la situazione è questa. un... La ringrazio per la cortesia, ma ho concluso l'intervento. Grazie. Grazie, consigliere Bombardi. Apriamo ora alle dichiarazioni di voto. Perini? Volevo tranquillizzare l'amico Ercolani della Lega. No, lo volevo tranquillizzare perché avrete il Ministro dell'Agricoltura, quindi il problema è risolto. Tranquillo, possiamo anche non votare l'ordine del giorno. La dichiarazione io se posso per il gruppo Lega perché il mio capogruppo non c'è. Adesso, allora, sicuramente il voto contrario al vostro documento. Guarda, un po' mi dispiace nel senso che io sono dell'idea che quando un documento è corretto, indica una direzione giusta e diciamo la causa è buona, non bisogna guardare chi l'ha presentato. Se l'idea è buona bisogna approvarla. Però è anche vero che qui ci sono delle premesse che, diciamo, come dire, sono opinate. Sono quelle al centro della discussione? Sì, no? Sono degli elementi validissimi che condivido. Ma sono tutti? Siccome mi si attacca, giustamente, sull'incompletezza, sulla non correttezza del mio documento, mi pongo dei dubbi anche sul vostro. Sfortunatamente è stato presentato in corso di seduta e io oggi, è una lezione tutto il giorno, non ho avuto modo di approfondirlo. Quindi mi spiace, ma per le stesse ragioni che mi avete presentato voi, non posso esprimere un giudizio completo e formalizzato su un documento che non ho avuto modo di approfondire. Sarebbe dire una cosa, esprimermi su qualcosa che non conosco. Quindi preferirei, anche visto e sentito il parere del mio capogruppo, votare contrariamente al vostro documento. Rinnovo invece il voto favorevole, giustamente, al documento presentato dal gruppo Lega, che secondo me raccoglie le istanze del territorio e le solleva a un livello nazionale, rendendo possibile quindi una discussione. Inoltre vorrei sottolineare un elemento che mi è stato fatto sempre notare dal mio capogruppo, che ha più esperienza, ovvero il fatto che voi abbiate presentato un ordine del giorno, mentre quella presentata da noi era una mozione, mozione che è un atto esecutivo, un impegno concreto, mentre ordine del giorno è semplicemente un parliamone. Questo forse è un elemento che mi era sfuggito e mi spiace, ma che sottolinea gli intenti diversi forse. Questo è politica pura, qui c'è nel nostro una base di concretezza. Questo è qualcosa sul quale voglio far riflettere tutti i consiglieri, ed è forse la differenza dell'impegno che ci mettiamo noi della Lega perché ci crediamo, nei documenti che presentiamo, perché vogliamo che venga fatto qualcosa, e la differenza è in quelli che ne parlano. Solo questo. Quindi voto contrario al PD, voto favorevole alla Lega. Grazie Presidente. Allora, il voto di Fratelli d'Italia sarà a favore della mozione presentata dai colleghi Ercolani e Rolando. Spiace tuttavia, proprio perché l'argomento trattato è importante, che non si voglia trovare un punto d'incontro che potrebbe anche banalmente essere uno vota il proprio e si astiene su quell'altro, poi per carità, in maniera tale che passino tutti e due. Mi rendo conto che forse è solo una vana speranza, però sarebbe bello se, ripeto, su un argomento importante come l'agricoltura, perché è vero, purtroppo si è un po' debordati in questa discussione e non si è analizzato, diciamo che la politica ha prevalso sulla... il furore politico ha prevalso sull'argomento in sé. Però comunque sia, leggendoli entrambi, in entrambi io ravviso argomenti condivisibili e magari argomenti un po' meno condivisibili. Quindi potrebbe essere un atto di buonsenso quello di votarsi il proprio e astenersi su quell'altro. Grazie. Bombardi. Grazie Presidente. Ercolani ha voluto richiamare anche le forme dei documenti e a questo punto la mia replica si chiude definitivamente dopo l'esito delle nostre votazioni. È volutamente diverso il tipo di documento, perché in ordine del giorno è un documento di indirizzo. La mozione è assimilabile a una delibera e i contenuti della vostra mozione non possono essere altro che un indirizzo politico. Non possiamo noi deliberare di imporre al Governo quale è senza seminare? Daremo dei suggerimenti dal Comune di Ravenna, dal Consiglio Comunale di Ravenna possono arrivare degli indirizzi, delle spinte, ma non degli atti di delibera, collega. Quindi si era soprasseduto su questo, ma mi tirate fuori le parole di bocca e a questo punto chiudo veramente, apprezzo le aperture di Ferrero, ma non è una picca politica, è che si è fatto un percorso completo di disamina di un documento, affrontato il tema per quello che questi mesi hanno previsto. Poi possiamo fare altre commissioni, possiamo fare altri documenti successivi condivisi, se ci sono le convergenze, ma questo percorso di questo atto deve concludersi e non ritengo sia necessario impiegare ulteriormente il tempo e i soldi dei cittadini su questo tipo di documento. Il gruppo del PD voterà in maniera contraria alla mozione della Lega è favorevole al nostro ordine del giorno. Grazie. Io non ho contribuito molto a questi approfondimenti, mi limito nel mio piccolo a leggere il dispositivo della mozione che ci viene proposta e trovo che siano tutte cose giuste, che poi promuovono le misure di sostegno finanziario, micro, piccole e medie imprese agricole, zootecniche, esposizioni debitorie, spesso banche, eccetera. Chiedere per i camerati per il casolio, misure strategiche per estendere la filiera agricoltura, zootecnica, bacini agricoli est, promuovere effettivamente infrastrutture logistiche di stoccaggio, promuovere ed informare sull'opportunità offerta dal PSRN e dal PNR dell'attività agricola, agevolare i progetti per la raccolta e stoccaggio di acqua, promuovere il contatto delle specie infestanti, garantire sostegno finanziario dell'attività compite, chi può dire di no? Chi può dire di no? Sono cose molto concrete la cui a startezza, semmai, si valuta sulla capacità del sindaco e della giunta, ma forse anche della volontà e del tempo di impegnarsi a favore di queste finalità, per cercare di chi ha la possibilità, il potere, le competenze per agire, per agire, sia sollecitato a farlo. Per questo non rientra nel tipo di reo di ragione o delle emozioni proprie di visto per Ravenna che si concentra per sua natura, non abbiamo partecipato a queste lezioni politiche, non a caso, si concentra sulle cose che si possono fare a Ravenna e che possiamo fare noi a Ravenna, oppure, se non le possiamo fare noi, agire in modo stringente verso chi può arrivare a farlo. Ma comunque, secondo me, questo dispositivo può essere votato per per le intenzioni che esprime. Non ho altre dichiarazioni di voto. Le dichiarazioni di voto erano sia sulla mozione che sull'ordine del giorno, quindi non so se non l'avevo specificato, quindi lo risottolineo. Bene, allora apriamo la votazione sulla mozione. La prima votazione è la mozione presentata da Gruppo Lega. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La mozione è respinta. 26 presenti, 26 votanti, 7 voti a favore, 19 contrari, contrari tutti i gruppi della maggioranza. Mettiamo ora in votazione l'ordine del giorno presentato dal gruppo Partito Democratico. Grazie a tutti. 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 L'ordine del giorno è approvato. La mozione successiva è la mozione presentata dal consigliere Ancisi. Avente ad oggetto, le imprese artigiane non paghino due volte per i rifiuti speciali. Consigliere, lei la parola. Chiamerei Camigliani alla Presidenza per un cambio. E' un po' datata questa mozione, quindi non so se nel frattempo ci sia stata qualche evoluzione nel senso auspicato. La questione è stata sollevata dalla Confederazione Nazionale degli Artigiani. Riguarda tutti i sindaci della provincia di Ravenna per alcune incongruenze inserite nei loro regolamenti tari che non tengono conto delle modifiche al codice ambientale in materia di gestione dei rifiuti apportate dal Decreto Legislativo 1116 del 2020. Quella più importante per le imprese artigianali è l'esclusione dal calcolo dell'Atari di tutte le superfici in cui vi sia una produzione prevalente e continuativa di rifiuti speciali i quali non possono essere smaltiti attraverso l'utilizzo del servizio pubblico a seguito di questo Decreto Legislativo e non possono più essere assimilati agli urbani dai regolamenti comunali. I rifiuti speciali prodotti delle aziende artigiane, salvo una loro parte che la norma definisce simili agli urbani, devono essere smaltiti esclusivamente attraverso un servizio privato spesso dell'azienda, mentre rimangono soggetti al pagamento dell'Atari e superfici aziendali che producono rifiuti urbani come gli uffici, le mensi refettori e i servizi igienici. Nel corso dei confronti con le amministrazioni comunali, a seguito dell'approvazione dei nuovi regolamenti tali, al fine di recepire tali novità, è emesso tuttavia che sono state escluse da queste previsioni normative le attività di produzione del settore artigianale, nonostante il Ministero della Transizione Ecologica abbia di fatto confermato con una propria circolare che, riguardo alla loro applicazione, non vi è distinzione tra i vari settori produttivi parimenti coinvolti. Applicando i regolamenti comunali, ripeto, della provincia di Ravenna, in maniera restrittiva rispetto alla legge, le imprese artigianali dovranno pagare due volte lo smoltimento dei rifiuti speciali prodotti, una volta rimunerando la ditta privata a cui sono obbligate a ricorrere, una seconda volta versando al Comune la tassa rifiuti, per giunte in alcuni casi senza poter usufruire di alcun tipo di agevolazione per il recupero di quelli riciclabili. L'aumento notevole dei costi e l'incremento delle problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti penalizzano fortemente il mondo artigianale, generando nelle sue imprese un profondo stato di disagio. In definitiva, le aziende artigianali chiedono semplicemente di non dover pagare due volte lo stesso servizio e di non essere in ciò discriminate rispetto ad altre categorie produttive, quelle fra l'altro che ho già citato, concetto addirittura fondante della legge 147 del 2013, che regola la tassa dei rifiuti. L'articolo 1 dice che il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso o adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Nella determinazione della superficie assoggettabile da Tari, non si tiene conto di quella parte di essa dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, che è quello di cui vi parlavo. Quindi la mozione è, primo, ricercare modalità di ecoapplicazione di questo articolo 183 del decreto legislativo 116 del 2020, che non obblighino le imprese artigianali a subire per lo smaltimento dei rifiuti speciali, sia i costi, ripeto, ormai obbligatori, dell'affidamento del servizio della vita privata, che il pregamento della Tari. Secondo, coinvolgere verso questo obiettivo tutti i comuni dell'ambito provinciale, col coordinamento della provincia e con la partecipazione di Atersir, agenzia regionale che sovrintende la gestione dei rifiuti, e questo perché il Consiglio locale dell'Atersir è composto dagli stessi comuni e province. Infine, attivare e condurre parallelamente al riguardo un dialogo aperto e proficuo con le rappresentanze associative delle aziende addigianali. Ecco, io se mi ricordate che data ha questa mozione, per favore, ho finito. Nessuno lo sa. Bene, grazie. Aspetta che ci guardiamo. Se guardiamo un attimo, poi le rispondiamo. 13 agosto, Consigliere Ancisi. Grazie. Consigliere Ancisi, ha terminato il suo intervento? Sì, sì, sì. Ok, ecco. Allora apriamo la discussione. Grazie. Microfono, Consigliere, mi sembra che sia acceso. Io mi limito a specificare, a ricordare, non ho assistito in realtà all'illustrazione del collega, che l'argomento è stato affrontato anche in altre città ed è stato interpretato in altre città in maniera, direi, più o meno conforme alla richiesta che fa il Consigliere Ancisi. Ci sono una serie a fare anche di pareri del Ministero e di non so quali altri numerosi, purtroppo, enti. è certo che il fatto che il Consiglio Comunale possa esprimere, dare un indirizzo affinché un'esigenza reale, un costo vero per imprese che in questo momento sono sottoposte a tutta una serie di rinchiari, un'eliminazione di un sopruso, perché lo definirei in questo modo, effettivamente potrebbe trovare, secondo me, sarebbe giusto che trovassi il consenso di tutta l'Aula Consigliare, a prescindere poi dal fatto che non venga messo in opera immediatamente, perché siano necessarie ulteriori valutazioni. Resta il fatto che in punta di principio e rispetto alle esigenze che queste imprese, che in particolare operano con i rifiuti speciali, devono sopportare, credo che meritino la nostra attenzione e il nostro voto favorevole. Grazie, Consigliere Ancarani. Si è segnato il Consigliere Axibecco, a lei la parola. Grazie, Presidente. La questione di Tari è stata più volte sollevata dalle varie rappresentanze del tessuto cittadino-imprenditoriale ed è stata anche approttata più volte anche in questo consesso e dall'amministrazione stessa. Chiaramente nel rispetto delle leggi nazionali e del regolamento comunale vigente che disciplina la materia. Faccio presente poi che è prassi generale che il tema della Tari, come altri temi che vanno a riguardare le imprese, vengono periodicamente trattati dal Comune e dalla provincia di Ravenna attraverso una continua interlocuzione con il tavo dell'imprenditoria composto dai vari rappresentanti delle associazioni di categoria. Devo dire che la nostra amministrazione ha sempre risposto prontamente nei limiti chiaramente delle loro competenze e delle loro possibilità dinanzi ai disagi sociali ed economici scaturiti dalle crisi, specialmente di questi ultimi anni. Un esempio è la pandemia da Covid-19 che ha messo in ginocchio tutto il sistema economico del Paese con i vari lockdown, la crisi energetica con i rincari bolletta, l'inflazione in rialzo, gli effetti della guerra in Ucraina. Pertanto ricordo come anche in periodo di piena pandemia il Comune di Ravenna aveva ridotto fortemente il pagamento della Tari alle imprese colpite con un valore anche di circa 8 milioni di euro in due annualità, parliamo di cifre a 6 zeri. Altro esempio è il canone di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, che nel 2022 è stato esentato agli esercenti del centro storico. Oppure, ancora più recente, lo scorso maggio del 2022, abbiamo esentato il pagamento della Tari agli esercenti di Porto Corsini a seguito del ripristino della viabilità cittadina per via dei lavori del ponte del Baiona. In questa mozione viene giustamente richiamata la legge 116 del 2020 che modifica il testo unico ambientale e che da un lato va a definire quelli che sono i rifiuti speciali che consentono la detassazione della Tari dalle relative superfici e dall'altro invece va a individuare e a elencare in maniera anche molto rigorosa tutte quelle attività che producono rifiuti assimilabili ai rifiuti prettamente urbani, che se prodotti portano all'applicazione della Tari in relazione alle corrispondenti superfici. Perciò è questa la legge, è questa la legge cornice del tema sollevato dalla mozione e sul quale noi qui siamo chiamati a discutere e ad intervenire. Ed è chiaro che una norma primaria non può essere di sicuro disattesa in forza da una circolare di un ministero, come quello della transizione ecologica, ministero che non si occupa minimamente dell'applicazione delle tasse e di imposte. Voglio anche ricordare che il regolamento comunale della Tari prevede una serie di riduzioni per le attività artigianali in questione ed è tuttora applicabile anche dopo l'entrata in vigore delle nuove norme con lo scopo di attenuare la tassazione di queste attività in funzione di eventuali rifiuti speciali prodotti con riduzioni che possono anche arrivare fino al 37% della tassa complessiva annua. In conclusione voglio dire che le amministrazioni dell'intera provincia di Ravenna e non solo del nostro Comune sono al costante dialogo e lavoro con le rispettive realtà produttive sin da quando sono nate queste storture interpretative prima menzionate nel dispositivo al fine di trovare una quadra unitaria ed omogenea su tutto il territorio provinciale onde evitare differenti applicazioni dell'imposta ai vari territori e come gruppo del Partito Democratico auspichiamo che questi confronti provinciali con il tessuto produttivo siano continui ma soprattutto risolutivi. Grazie Eravamo in discussione, vero? Ok Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto Ancisi deve fare le conclusioni rispetto alla delibera A lei la parola Veramente io non ho capito molto un intervento che al di là di tanti fatti avvenuti a favore degli attigiani nelle varie emergenze delle varie necessità che nessuno mette in discussione qui si arriva al dunque secondo cui quello che la legge non dice oppure si presta a interpretazioni arriva al punto che rifiuti speciali che prima erano a carico del servizio pubblico perché si svolgono nello stesso ambiente di produzione da cui vengono prodotti rifiuti oggi devono essere secondo l'interpretazione finora valevole nelle comuni della provincia di Ravenna non ovunque non ovunque devono pagare per gli stessi rifiuti speciali sia il privato che li deve conferire e in questo modo per esempio non posso neanche far valere i bonus relativi alla parte di questi rifiuti che vengono smaltiti ecologicamente riciclati e dall'altra devono pagare anche il comune di Ravenna come se il servizio pubblico fosse svolto questo servizio fosse svolto dal comune di Ravenna ora il dispositivo è talmente diciamo comprensivo delle difficoltà che ci possono essere da non dire assolutamente a ragione loro fate così cambiate il regolamento tari eccetera eccetera dice ricercare modalità di equa applicazione dell'articolo 83 di quel famoso difeso legislativo del 2020 che non obbligano le imprese artigianali a subire per lo smaltimento dei rifiuti speciali una parte si capisce perché gli altri sono assimilabili e seguono la sorta di prima seguono la sorta degli urbani sia i costi dell'affidamento del servizio interdita privata che il pagamento dell'atari è una cosa due più due insomma non è discutibile ma non si dice si dice ricercare e si invita il sindaco a ricercare modalità di equa applicazione e coinvolgere in questo obiettivo tutti i comuni perché è giusto che sia omogeneo l'indirizzo in tutta la provincia e qui ci aiuta il fatto che il sindaco è anche presidente della provincia e si dice anche Atersi che è l'agenzia che sovrintende la gestione dei rifiuti Atersi poi è composta dagli stessi comuni e dalla provincia di Ravenna quindi è una cosa ma in più come lo stesso consigliere Sibeco ha ricordato e ha spiegato e assicurato che avverrà sempre attivare e condurre parallelamente riguardo un dialogo aperto e portico con le rappresentanze associative dell'azienda istituzionale francamente non vedo dal suo intervento le ragioni per dire che questo governo ci è stato affrontato meno che in forma dialogante che è in forma positiva per cui naturalmente se vogliono firmare la maggioranza se vogliono in qualche modo anche correggere ma non vedo il problema esiste il problema esiste è un problema reale insomma e sono le stesse categorie che insistono io ho chiesto che data aveva il 15 agosto mi pare che da allora sono stato molto attento non si sia data notizia neppure di incontri tanto meno siamo ancora in tempo siamo ancora in tempo se il consiglio comunale dà semplicemente queste indicazioni cosa vuol dire che e se non le dà e se non le dà cosa vuol dire che tutto chiuso rimane così senza neppure avere condotto fino in fondo l'approfondimento e il dialogo non so come dire se si vuole a dire riguardiamoci meglio la proposta è stata fatta con l'intento positivo di non creare delle contraposizioni non accusa nessuno non accusa nessuno non dice c'è solo il problema c'è è stato sollevato dalle categorie è reale può essere risolto altri l'hanno risolto il ministero della transizione ecologica C che non sia quello direttamente interessato ha dato la sua interpretazione quindi la materia non è sballata non è sballata non si può cercare una modalità di applicazione che vada incontro alla soluzione di questo problema e poi se non la si trova ce ne faremo una ragione ce ne facciamo una ragione il metro non è quello giusto è quello di coinvolgere tutti i comuni e la provincia e anche Attersir e poi parallelamente di condurre un dialogo con le rappresentanti delle aziende artigianali me lo poteste insegnare voi questo metodo cioè che avete responsabilità di governo da tanti anni e quindi questo metodo dovrebbe essere quello normale da praticarsi per cui io non ho se c'è problema di ritirarlo per rivederlo non ho problemi se invece è un problema votiamo così vado come deve andare andrà come deve andare se c'è qualcuno interessato per questi problemi valuterà insomma perché qui veramente un atteggiamento così sfidante quasi dell'opposizione verso la maggioranza adesso ci penso io a metterli in buca cosa del genere non c'è non c'è sarà che invecchiando insomma si si attenua un po' tutto la la vista aggressiva ecco insomma non io insomma non so peraltro non c'è l'assessore non c'è nessun assessore ecco ecco insomma lo dobbiamo decidere noi senza che l'assessore con l'assessore che ha impedito naturalmente se l'ha impedito a partecipare c'è da prima però no credo che sia sì chi no l'Atari che non sia del servizio finanziario ecco che non sia del servizio finanziario probabilmente del servizio finanziario tutto qui non ho intanto da dire se avete delle proposte da fare in un qualche modo sono disposto ad accettarle dichiarazione di voto al Gibeco grazie presidente beh sì siamo tutti ben consci insomma delle difficoltà del contesto storico ed economico in cui tutti noi versiamo non solamente le imprese artigiane ma anche i cittadini i piccoli e i medi imprenditori gli agricoltori anche gli industriali ma qui ci troviamo dinanzi più che a un problema diciamo reale che sicuramente lo è ma a un problema di quadro normativo a un vuoto normativo infatti con questo assetto giuridico costellato da limiti tecnici ed interpretativi dobbiamo anche prendere atto che però come Consiglio Comunale non sussistono le necessarie e le sufficienti condizioni affinché si possa effettivamente approvare una richiesta simile seppur possa essere condivisibile io ho sentito prima parlare del fatto che non si era conoscenza dei tavoli di confronto tra il Comune e la Provincia ma in realtà questi sussistono sussistono e stanno ancora continuando non si sono mai concluse ed è per quello che come maggioranza noi ospichiamo che questi tavoli di confronto continuino questo perché in questa terra noi siamo abituati così siamo abituati a relazionarci a confrontarci ad ascoltare i cittadini ad ascoltare le imprese e a prendere chiaramente decisioni decisioni equilibrate e ponderate nell'interesse di tutti sappiamo bene che da una parte abbiamo una legge dall'altra abbiamo una circolare una sorta di interpretazione estensiva da parte di un ministero di sicuro che non si occupa di queste tematiche ma che comunque bisogna tenerne conto però proprio per un criterio diciamo legale ecco giuridico come ho anche prima detto nell'intervento di prima non si può pensare di non considerare la legge in favore di una mera estensione applicativa e interpretazione da parte di un ministero di cui di fatto non ha competenza in materia chiaramente tutto si può fare ecco ci si può dialogare ci si può confrontare ma da quel che sappiamo questo confronto c'è persiste tuttora tra le categorie di rappresentanza degli artigiani e tutti gli amministratori che della provincia di Ravenna pertanto non sussistendo questi elementi non abbiamo modo insomma di dare una sorta di valutazione o più che altro di intervenire in maniera più o meno diretta in questo consenso mi preme di dire che appunto noi non abbiamo modo ecco di poter intervenire e di poter insomma far qualcosa perché di fatto la provincia di Ravenna si sta già muovendo parallelamente chiaramente secondo le direttive dell'Atesir ma anche dell'Anci che approvano di fatto e che rispettano la legge 116 del 2020 pertanto devo anticipare che il voto del mio gruppo a questo impianto sarà di parere contrario grazie altre dichiarazioni di voto grazie presidente ecco io dico semplicemente che siamo perfettamente favoribili del documento che troviamo corretto e giusto perché supporta le imprese artigiane del nostro territorio ed è diciamo qualcosa che già altri comuni altre amministrazioni fanno pertanto non ci sono ragioni per non votare contro non ci sono ragioni per astenersi e quindi il nostro voto sarà favorevole grazie non ho altre dichiarazioni di voto apriamo la votazione la mozione è respinta 24 presenti 24 votanti 24 votanti mozione è respinta con 17 voti contrari 7 favorevoli contrari tutti i gruppi della maggioranza passiamo ora al primo ordine del giorno iscritto ordine del giorno presentato da consigliere Perini avente ad oggetto pannelli solare sulle scuole a lei la parola ci sono rimasto perché pensavo lo presentasse il dottor Schiano perché è lui l'uomo dell'ecologia del verde dell'assegno per i poveri no è una battuta mi auguro che lo voti però è molto semplice se uno pensa colleghi all'estate appena trascorso con giornate dove il sole dove la temperatura era molto alta io provo a immaginare con terrore come sarà l'inverno soprattutto per riscaldare non solo le scuole io qui ho messo le scuole però lo allargherei agli edifici pubblici i pannelli solari pannelli solari adesso con la PNRR potremmo in qualche modo utilizzare questa energia pulita per riscaldare diciamo per riscaldare in parte le scuole dei ragazzi ma non solo immagino che in un palazzo merlato sarà difficile perché qui dopo la sovrintendenza però i pannelli solari in edifici nuovi a parte gli edifici di via Bellinguer che ho visto che ecco e quindi chiedo con questo ordine del giorno di valutare con attenzione la possibilità di un numero sempre maggiore delle scuole degli edifici pubblici per i pannelli pannelli solari grazie grazie consigliere Ercolani io volevo intanto annuncio che voterò a favore del documento volevo chiedere ecco magari se si potesse fare si potesse aggiungere la richiesta di una mappatura da parte del comune degli edifici per l'appunto uffici pubblici che possono ospitare queste diciamo i pannelli solari eventualmente anche strutture per l'accumulo perché diciamo non è detto che possa essere necessario poi anche di utilizzarla ci sono giornate in cui il sole non tira magari il giorno prima ha tirato tanto ecco solo questa integrazione se fosse possibile metterla perché secondo me è una cosa utile è una cosa che comunque il comune forse ha già fatto onestamente non ne sono a conoscenza pertanto se si si possa aggiungere comunque io voterò anche se non dovesse essere integrato questo documento a favore grazie presidente ho ascoltato e l'avevo anche letta nel momento in cui mi è arrivato il materiale relativo al consiglio comunale di questa di quest'ordine del giorno e premetto anch'io che voterò a favore perché nel momento in cui si vi batte di un argomento di qualche cosa che è a tutela dell'ambiente da un lato e dall'altro lato come in questo caso l'installazione di pannelli che ci fornirebbero appunto energia elettrica in un momento peraltro come quello attuale in cui non sappiamo bene speriamo che il il futuro governo potrà possa mettere mettere mano e risolvere qualche problema anzi ne siamo sicuri per ovvi motivi ovviamente però ovviamente sappiamo che ci saranno delle difficoltà per quel che riguarda l'approvvigionamento energetico quindi avere dei pannelli su edifici pubblici che possano integrare l'inverno saranno ovviamente di meno le integrazioni ma d'estate quando c'è il sole che splende queste saranno molti di più io ritengo che sia un dispositivo che debba avere il più ampio appoggio e sostegno possibile faccio presente che quanto ha chiesto il collega Ercolani trova il nostro sostegno anche perché siamo in una fase in cui gli strumenti a disposizione a mano a mano che si studiano queste nuove tecnologie aumentano quindi oggettivamente l'accumulatore può essere utile perché sappiamo bene che nel momento in cui c'è un pannello e c'è il sole l'energia prodotta è in funzione appunto all'irradiamento solare e non sempre questa energia viene poi utilizzata dall'edificio perché magari c'è un momento di picco e l'energia prodotta è superiore a quella effettivamente necessaria se ci fosse anche un accumulatore e magari col PNRR ci potranno essere forse anche delle possibilità di avere degli sgravi oppure dei finanziamenti da parte dello Stato o dell'Europa in questo caso ritengo che si possa sarebbe cosa buona e giusta vedere di integrarlo comunque sia indipendentemente da tutto il mio voto sarà favorevole Consigliere Buccari Grazie Presidente Allora premesso che la realizzazione di impianti solari fotovoltaici è senza dubbio una buona pratica che un'amministrazione deve attuare volendo percorrere la direzione della sostenibilità ambientale in quanto consentirebbe come abbiamo già sentito dai consiglieri che mi hanno preceduto la produzione di energia elettrica utilizzando esclusivamente la fonte rinnovabile del sole allora ci sono comuni in Italia che hanno già da anni avviato l'esperienza del fotovoltaico sui tetti delle proprie scuole e tra questi comuni c'è anche quello del nostro territorio quindi anche Ravenna nel comune di Ravenna sono stati infatti già collocate pannelli solari fotovoltaici su ben 17 scuole e in alcune sono in fase di attivazione questo penso che sia una notizia molto importante tra l'altro insomma si parla di comunità energetiche di fatto quindi la legge mancano i decreti attuativi e con questa formula potremo senz'altro affrontare il tema anche in senso cooperativo ci tengo a precisare che comunque la situazione di emergenza energetica ambientale che incombe su tutti noi ci impone quindi di proseguire per questa strada e ci auguriamo che possono essere individuate anche nei prossimi bandi del PNRR voci che consentano a questa amministrazione l'accesso a nuovi fondi da investire sulle fonti energetiche rinnovabili come quelle dei pannelli solari fotovoltaici da collocare appunto sia sugli edifici scolastici sempre in gran numero e naturalmente anche sugli edifici comunali o su altri edifici pubblici immagino si possa anzi sono sicura perché vi ho sentito siamo tutti d'accordo su questo tipo di pianificazione che consentirebbe una riduzione dell'emissione di energie carbonica in atmosfera e la collocazione del voto voltaico in tutte le scuole è un obiettivo al quale dobbiamo tendere questa potrebbe essere potrebbe anzi secondo me diventare un esempio concreto di transizione ecologica finalizzata non soltanto a ridurre l'impatto ambientale ma anche in base all'efficienza dei pannelli anche ad aumentare la quantità di energia elettrica prodotta durante l'anno e mi sento quindi di dire che condivido in pieno il contenuto dell'ordine del giorno presentato dal consigliere Perini e per questo magari desidererei anche sottoscriverlo quindi per quanto riguarda il partito democratico sono perfettamente d'accordo grazie anche noi abbiamo ascoltato con attenzione il documento di Perini concordiamo sulla necessità di inserire i pannelli sulle scuole in questo periodo fra l'altro è un argomento come dire alla moda ha solo un rilevo che tra l'altro è stato detto in questa seduta la minoranza o meglio l'opposizione come vedete non sempre è contrario ai vostri documenti anzi quando hanno del buonsenso e non hanno vena polemica noi volentieri volentieri approviamo e appoggiamo voglio anche dire che riteniamo utile che l'inserimento dei pannelli venga posto anche su tutti gli altri edifici pubblici comunali e non dove è possibile dove si possa poi creare un vero risparmio aggiungo anche che troviamo di buon senso l'aggiunta che vuole fare il collega Colani sul monitoraggio degli edifici in modo da avere sempre sotto mano sia il numero degli edifici sui quali i pannelli sono già inseriti sia quelli sui quali è possibile farlo abbiamo così una mappatura completa del tutto direi che un argomento che ci trova totalmente noi siamo per una città più pulita per un mondo più pulito per delle risorse energetiche il meno inquinanti possibile non dico pulitissime dobbiamo anche essere concreti e guardare la realtà detto questo direi che niente appoggiamo il documento del nostro collega Perini grazie schiano ringrazio il consigliere Perini e sottoscrivo anch'io ovviamente per l'iniziativa che ha proposto cioè assolutamente lodevole e del resto si sposa con la linea politica che abbiamo intrapreso fin dall'inizio della consigliatura sono contento e non posso che approvare del resto il PNRR sarà come è sempre stato auspicato il volano per fare quel cambio di passo energetico necessario all'Italia mi ha sorpreso prima lo dico così in tono ironico ma non troppo che Fratelli d'Italia ha proprio citato la borsa di Amsterdam dove si parlava della speculazione in atto sull'energia cioè la speculazione che sta avvenendo a livello economico su quanto ci costerà l'energia elettrica e il gas quindi ribadisco quello che abbiamo sempre detto in quest'aula ma che diciamo anche nell'aula in Parlamento in Senato essere indipendenti attraverso le fonti di energia rinnovabile è l'unico futuro che ci aspetta altrimenti saremo sempre dipendenti dallo speculatore che ci terrà per la giacchetta nella speranza di vedere collassare il paese successivo quindi assolutamente accetto e sono contento di sottoscriverla anche sulle aggiunte che poi ha portato il consigliere Ercolani ci sono Ancisi voto a favore sottoscrivo se è possibile Presidente sottoscrivere anche io visto l'invito del consigliere Perini ci sono altri interventi prima di darle la parola Perini chiedo se ci sono altri interventi anche la Beccaria ha chiesto di sottoscrivere ok no 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 lo scriviamo noi lo scriviamo noi quindi e dopo facciamo il giro di firme intanto facciamo prima finiamo un attimo la discussione chi aveva chiesto la parola nessuno Perini le conclusioni prego va bene così va bene così non c'è problema siamo tutti d'accordo va bene così bene dichiarazione di voto bene apriamo la votazione grazie forse hai tolto il badge Massimo c'è il badge no non risulta inserito però prova a toglierlo rimetterlo adesso ci sei vota lo prende eh no clicca su presente ok bene la votazione è conclusa l'ordine del giorno è approvato all'unanimità bene proseguiamo con l'ultimo dg della serata o dg presentato da consigliere schiano sottoscritto da impellizzeri e perini avente ad oggetto un sostegno alla legge saman a lei la parola grazie presidente un sostegno alla legge saman allora facciamo un brevissimo cappello è una legge proposta dalla nostra deputata stefania scari che va a colmare una lacuna normativa che avrebbe potuto salvare quella ragazza saman e potrebbe se approvata in futuro salvare la vita di tante altre ragazze per chi non avesse seguito la vicenda un anno fa nella notte tra il 30 aprile e l'1 maggio del 2021 a novellara saman abbas scomparve e del suo omicidio furono accusati i genitori lo zio e due cugini la ragazza pakistana di origini pakistane sarebbe stata uccisa dopo aver rifiutato un matrimonio combinato con un uomo molto più grande di lei all'età di soli 18 anni e un anno dopo le indagini che si sono chiuse poco tempo fa hanno ricostruito quello che nella notte la giovane aveva passato ovviamente ripeto di origini pakistane però residente a novellare in provincia di Reggio Emilia quindi molto vicino a noi fu consegnata allo zio e a due cugini che d'accordo con i genitori la uccisero e ne fecero sparire il corpo con le prove che ovviamente sono state portate all'attenzione del tribunale abbiamo provato a creare questa legge con la nostra deputata che è passata attualmente alla Camera ma non al Senato con le nuove disposizioni della legge proposte per i casi di violenza contro le donne Saman avrebbe potuto avere diritto al rilascio del permesso di soggiorno ma questo non è stato possibile a causa della mancanza di un richiamo al reato di matrimonio forzato nell'articolo 18 bis del testo unico questa lacuna normativa ha impedito a Saman che venisse rilasciato il permesso di soggiorno che molto probabilmente le avrebbe salvato la vita sottraendosi a quella violenza visto che ripeto deve ancora passare in Senato chiediamo al Sindaco e alla Giunta che si rendano sostenitore di questa legge affinché possa passare anche al Senato avendo il maggior numero di sostenitori da parte di tutte le forze politiche agenti e coinvolte che si predispongano anche nel nostro comune iniziative mirate al fine di promuovere sul territorio la tutela e il sostegno alle ragazze vittime anche di queste specifiche violenze grazie finalmente mi diverto un po' perché oggi veramente stavo iniziando a rimpiangere il consiglio quello non dal vivo ma al di là delle mie battute io ero colpito dal fatto che questa richiesta venisse dai grillini e dalla sinistra della sinistra dicevo mamma mia ma hanno improvvisamente sono stati fulgurati sulla via di Damasco e dire che l'hanno presentato anche prima delle recenti elezioni dicevo ma cosa sarà successo allora cosa succede succede che purtroppo il tema della legge Saman è un po' come il tema della legge Tanno cioè il titolo dice una cosa cioè il principio che viene su cui la legge vorrebbe basarsi è sacrosanto e probabilmente nessun essere umano dell'emiciclo parlamentare o consigliare direbbe mai che quei principi su cui quegli argomenti vengono indicati per fare quella norma non siano condivisibili poi dopo c'è la norma c'è il come dice Siri dice non so se ho capito bene infatti infatti direi che Siri è perfettamente azzeccato su questo su questo tema perché il punto qual è che per difendere da un fatto di cronaca gravissimo sul quale dovremmo tutti aprire gli occhi oggi ho notato con grande gioia che le malmostose di questa città per la prima volta forse nella storia di questa città si sono occupate di un tema concreto e vero di cui dovrebbero occuparsi delle femministe malmostose la questione dell'Iran Dio grazie anziché di follie come la manifestazione degli uomini in calzamaglia che non andavano bene perché erano troppo uomini per la rievocazione storica queste sono le femministe di questa città che oggi finalmente si sono svegliate ecco è lo stesso argomento che c'è su questa legge su questa legge si dice a dobbiamo dare più permessi di soggiorno per evitare che succeda, perché questo è quello che dice la legge, dobbiamo dare, perché Saman moriva anche col permesso di soggiorno, è questo il tema, quello che bisogna evitare, che bisogna iniziare a mettersi in testa è che questo tipo di etnie vanno particolarmente osservate da chi deve fare, osservare le leggi, questo è quello che deve succedere, perché purtroppo il buonismo del aumentiamo i permessi di soggiorno, quando quelle famiglie ragionano in quel modo e quelle famiglie sono in Italia con o senza permesso di soggiorno, ma consentiamo loro di fare quello che vogliono, non li educhiamo, non stiamo attenti a come si comporta, poi succedono queste cose, permesso di soggiorno o non permesso di soggiorno. E allora purtroppo che cos'è la legge Saman per come è scritta? Rischia di essere l'ennesimo salvacondotto, l'ennesima sanatoria per dare un maggior numero di permessi di soggiorno, che chi vi parla, attenzione, forse anche rispetto ad altre aree del centro-destra, io non sono contrario ai permessi basati sui flussi, per ragioni di lavoro, per attività lavorative che in Italia gli italiani non fanno con o senza il regno di cittadinanza, voglio essere chiaro. Io ritengo che sarebbe necessario che si ripristinasse un tot di permessi di soggiorno all'anno, ma non c'entra nulla con la legge Saman, è per dirvi che io non sono preventivamente contrario a un tot di permessi di soggiorno all'anno, ma vi dico che quella legge è un tentativo sul rettizio di far aumentare i permessi di soggiorno senza risolvere una virgola del problema che la vicenda Saman ha fatto emergere, senza risolvere una virgola e allora ancora una volta cosa fa la sinistra in Parlamento e poi lo porta nei consigli comunali, usa problemi concreti, usa principi sacrosanti che tutti dovremmo difendere in realtà per far passare parti del proprio programma elettorale che altrimenti se venissero esplicitate sicuramente non passerebbe. Questo purtroppo è il tema, ci auguriamo che la fase futura in generale chi stia in maggioranza governazionale o in opposizione non cambia molto, faccia tutti rinsavire sul fatto che dobbiamo chiamare le leggi con il loro nome, dare agli obiettivi che quelle leggi si prefiggono anche lo stesso contenuto e non cercare di far passare altri argomenti utilizzando obiettivi diversi. Natali No, esposito, scusi, spenga, impelizzeri, Natali. Ok, poi ricominciamo il giro. Grazie. Allora, l'ordine del giorno presentato merita tutta la nostra attenzione, in quanto purtroppo la violenza, soprattutto domestica, è molto diffusa e in continuo aumento e non siamo sempre e tutti preparati e capaci ad affrontare al meglio le diverse situazioni. E a questa violenza dobbiamo aggiungere la violenza contro le vittime del reato di matrimonio forzato. E la maggior parte di queste unioni sono tra uomini adulti e giovani ragazze che subiscono violenze fisiche e psicologiche. E ulteriori conseguenze di questa pratica sono l'isolamento sociale e l'abbandono scolastico. La legge Saman, che non è ancora stata approvata, deve essere portata avanti ed è anche compito nostro fare emergere il... Consigliere, per cortesia... No, io non ho capito niente. Allora, la legge Saman, che non è ancora stata approvata, deve essere portata avanti ed è anche compito nostro fare emergere il problema, anche attraverso la formazione dei docenti e l'educazione dei giovani. Per quanto riguarda le attività promosse sul nostro territorio, proprio ieri è iniziato un corso organizzato da Udi Ravenna, rivolto ai docenti e ai dirigenti scolastici contro la violenza sulle donne e di genere. Il corso è stato finanziato con il denaro riconosciuto a seguito della Costituzione da parte civile di Udi nel processo Cagnoni per il femminicidio balestri e in parte pagato dall'assessorato alle politiche e cultura di genere. Si sviluppa in undici lezioni, compreso una mostra al Palazzo Rasponi II. Come assessorato alle politiche e culture di genere del nostro comune, è stata organizzata inoltre la Rassegna una società per relazione che inizierà a metà novembre e terminerà intorno ai primi di dicembre. All'interno della Rassegna è organizzata una chiamata pubblica del Sindaco che prevede una camminata silenziosa che andrà a toccare i luoghi significativi, la Casa di Cagnoni, Piazza Ragastini, dove ci sono i gigli omaggio alle donne uccise a Ravenna, per terminare in Piazza dell'Aquila, dove il Sindaco farà l'ultima lettura di una poesia. La Rassegna prevede incontri, spettacoli, conferenze, tutto incentrato sulla sensibilizzazione a questo tema, che ormai vede una donna uccisa in meno di tre giorni. Infine, la prossima settimana è previsto un incontro della nostra Assessora Federica Moschini con i dirigenti scolastici degli istituti superiori di Ravenna per sensibilizzarli e chiedere di organizzare degli incontri per discutere con i ragazzi di questi argomenti. La scorsa settimana, l'Assessora Federica Moschini e Alessandra Bagnara, in la sua qualità di Presidente di Linea Rosa, hanno incontrato gli alunni di una classe quinta del Liceo Artistico Nervi Severini, che cureranno la locandina per la Rassegna e ritengo questo molto importante per attirare l'attenzione anche dei più giovani, così da vederli partecipare e che siano loro a pensarla ed esprimerla con il loro linguaggio. Grazie. In premessa vorrei dire subito che condivido in pieno l'intervento molto puntuale del Consigliere Ancherani e vorrei anche sottolineare, giusto per, è stato detto che la legge cosiddetta Samanne è stata approvata dalla Camera ma non dal Senato la scorsa legislatura, sapete come meglio di me che decade, quindi non è che si ripresenta al Senato, comincia ex no da capo. È stato pur detto che, e sottolineo ancora condividendo le parole del collega, che è un problema soprattutto culturale. Voi sinistra che continuate a voler creare i ghetti con ognuno la propria, fra virgolette, identità, dimenticando che l'unica identità che bisogna avere in questo Paese è italiana. Detto ciò perché? Perché, come sempre ha sottolineato il collega e quante volte lo cito, purtroppo la giovane Samanne è stata uccisa proprio per questo, perché voleva la nostra identità. Ponetevi il problema, ponetevi il problema quando vi alzate e sbandierate le bandiere di chissà quali altri mondi. Questo è il nostro mondo. Questo è il mondo dove non si permette a nessuno di fare del male a una persona, ad una donna in particolare, dove non si permette il matrimonio combinato, dove si consente a tutti di godere di diritti e di doveri. Questo è il mondo dove un padre ama i propri figli. Questo è un mondo dove c'è amore per la propria famiglia. È una bestia scellerata quell'uomo che ha ammazzato la propria figlia. In nome di cosa? L'onore. Quell'uomo non ha onore. Quell'uomo non ha dignità. Quell'uomo non dovrebbe esistere. Quindi, e chiudo, facciamo meno ideologia quando parliamo di queste cose. Attenetevi alla concreta realtà. Se volete che chi viene in questo Paese stia bene e possa progredire economicamente, spiritualmente, culturalmente, sappiate che devono integrarsi in Italia. Non essere noi a integrarci con gli altri. Loro che vengono qui si integrano, altrimenti non vengano. Grazie Presidente. Non so veramente da dove partire. Forse parto dal dire che in Italia le donne che subiscono violenza sono tantissime e nel nostro contesto, il nostro centro antiviolenza ne accoglie circa l'anno 350. E di queste c'è una percentuale quasi uguale di donne italiane e donne straniere. E la stessa percentuale sono gli uomini italiani e gli uomini stranieri. Per cui non parlerei tanto di questione culturale, ma di una questione che questo fenomeno, la violenza di genere, è molto radicata nel nostro contesto. Quindi mi dispiace dire che l'intervento del nostro collega esposito si basa molto sugli stereotipi, non tanto sui dati. Per cui ecco, ci tengo a sottolineare che il fenomeno e la trattazione del fenomeno si basa su dati concreti e noi fortunatamente li abbiamo e non è proprio quello che sta delineando il nostro collega. Rispetto invece al tervento del collega Ancarani, che mi dispiace non è presente in aula, ma vorrei dire che il testo unico dell'immigrazione prevede già un articolo, che è l'articolo 18 bis, che prevede la possibilità delle donne che subiscono violenze a straniere, di poter denunciare i fatti e di poter ricevere un permesso di soggiorno che le tuteli dalle violenze subite. E questa è una garanzia, non è il fatto che si aumentano o si cerca di dare più permessi di soggiorno. E la legge Saman tutela ulteriormente questa situazione, per cui le donne che subiscono questo tipo di violenza e quando lavoravo nel centro antiviolenza mi è capitato di seguire ragazze che subivano queste violenze e le loro difficoltà di uscire da queste situazioni erano veramente estreme, per cui la possibilità che vengano garantiti questi tipi di permessi di soggiorno sono una possibilità molto importante per queste ragazze e per queste donne che possono trovarsi a vivere queste situazioni. Grazie. Perini? Sì, io a volte quando sento l'amico Esposito credo che non ci creda neanche lui alle cose che dice perché sembra talmente... bisogna stare attenti, no Esposito, prima o poi ti scapperà una frase perché guarda che tu quando dici parli soprattutto di genere umano, Einstein quando gli chiesero ma lei di quale nazionalità è? Genere umano. Stai attento perché sono argomenti un po' particolare, ti scappa un verbo che dice una roba e dice oddio ma non lo volevo dire perché sono argomenti difficili, difficili. Guarda che Ugor Sain e Olzem Tureci, marito e moglie, turchi, hanno scoperto il vaccino anti-covid che hanno salvato milioni di persone, sono musulmani. Ecco, allora adesso se vogliamo proprio... eh? Eh. Qui si tratta la storia l'ha spiegato bene il capogruppo di 5 Stelle, qui si tratta che anche il paese di origine adesso loro sono... non c'è l'estradizione, cioè è una questione culturale. Noi qui abbiamo un'esperta che è il capogruppo di Coraggiosa che ha vissuto, diciamo, a contatto il suo lavoro era quello di aiutare queste persone. Immagino adesso qui... non voglio aprire perché è tardi e questo è un documento molto importante che dobbiamo votare tutti all'unanimità. C'è un altro grosso problema e immagino che tu, capogruppo, ne avrai sentito parlare, io ne ho parlato altre volte anche dell'infibulazione. È un trattamento religioso. Religioso. Non lo se a Ravenna ci sono degli ambulatori clandestini che facciano l'infibulazione. Ecco, insomma, effettivamente l'argomento è talmente vasto che dire permesso di soggiorno, oh, lo vogliamo ridicolizzare. No, è un argomento enorme, enorme. E quindi io credo che questo sia un documento che... non è che noi in Consiglio Comunale possiamo fare le leggi, però è un documento che in qualche modo può aiutare anche chi opera nel settore. Il settore, chiedo scusa, in questo... il settore non mi piace. Davanti a queste difficoltà, soprattutto legate alle donne. Io mi permetto, Consigliere Esposito, io ripeto, io penso che lei non ci creda le cose che dice. Le dice perché ha l'enfasi. Però le ricordo che anche nella nostra cultura contadina all'inizio del Novecento le donne venivano sposate perché erano i genitori che imponevano il matrimonio. Io ho conosciuto delle nonne che si sono sposate non per amore perché imponevano. Quindi voglio dire, attenzione, non è che noi, perché uno è italiano, ha il patentino, dice, ah, italiano. No, attenzione, eh, ci sono bravi italiani, bravi musulmani, cattivi, purtroppo ne abbiamo un esempio a Ravenna, cattivi ravennati anche. Quindi, ecco, io starei attento perché, amico esposto, prima o poi ti scappo una roba che fai vicino a un qualcosa che non dovresti dire. Vabbè, comunque. Non ci sperare. Non ci sperare. Ferrero. Grazie, grazie Presidente. No, allora, ritornando a bomba sull'argomento, parliamoci chiaramente. Allora, la legge Saman è composta da un solo articolo. Peraltro ricordo che è stata approvata la Camera e deve passare al Senato, considerando che, essendo terminata la legislatura e ci sarà l'insediamento delle nuove Camere, non so se probabilmente deve essere riformulata. Comunque, in sostanza, la legge Saman è composta da un unico articolo. Cosa dice quest'articolo? Allora, chi denuncia la costrizione al matrimonio potrebbe ottenere il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata annuale rinnovabile finché perdurino le esigenze umanitarie che ne hanno giustificato il rilascio. Parliamoci chiaramente. Se Saman avesse avuto il permesso di soggiorno sarebbe morta lo stesso. Qui, purtroppo, purtroppo, ed è... non voglio ribadire quello che ha già detto magistralmente il collega Ancarani, però purtroppo noi dobbiamo iniziare ad essere concreti, perché una legge si fatta mi sembra molto simile, parliamoci chiaramente, a coloro che dicono venite in Italia, c'è posto, così scappate da un posto in cui state male, poi una volta che sono in Italia uno si è pulito la coscienza perché sono venuti in Italia, ma poi lasciati così. In buona sostanza uno cosa dice? Una persona denuncia perché una ragazza denuncia perché il padre, il cugino, il fratello la vogliono obbligare. Le si dà un permesso di soggiorno, fine del discorso e siamo a posto così. Qui ciò che deve essere fatto è molto più profondo e radicale. Io mi auguro che il nuovo Parlamento si occupi di questo problema, ma lo faccia con un approccio radicalmente diverso. Qui si devono controllare esattamente come stanno le cose. Purtroppo noi siamo pieni e il discorso non è né etnico né razziale, niente. È un discorso purtroppo culturale. Noi siamo pieni di donne, bianche, gialle, rosse, verde, blu. È irrilevante che magari denunciano, poi nessuno fa niente e succede che magari dopo qualche mese, qualche anno, quello che è, vengono piante perché uccise dalla persona alla quale avevano fatto una denuncia, magari più di una denuncia, ma nessuno aveva fatto niente a puri né morta. Signori, qui si deve radicalmente rivedere tutto l'impianto. Non è pulendosi la coscienza, rilasciando un permesso di soggiorno a chi si risolve il problema. Noi dobbiamo andare a vedere esattamente come stanno le cose. Si devono andare giusti i centri di ascolto, quello che è, ma poi oltre ad ascoltare ci deve anche essere controllo, controllo probabilmente anche della forza pubblica. Ci sono case in cui ci sono donne che magari risiedono in Italia da vent'anni e non hanno mai messo il naso fuori dalla casa. Vi sembra normale questo? Persone che potrebbero tranquillamente perché è residente in Italia da vent'anni richiede il permesso di soggiorno, la cittadinanza e verrebbe concessa perché la legge prevede che dopo dieci anni uno fa domande e gli viene concessa e magari non sanno schiccicare una parola di italiano perché il marito magari è conosciuto, le ha tenute in casa e va tutto bene. Signori, inistiamo a guardare le cose come stanno. La legge Saman, io mi auguro che il nuovo governo la faccia, ma sia totalmente diversa perché questa non risolve il problema. Quindi io appresto l'intento della consigliera Impelisseria e del consigliere Schiano perché sono indubbiamente animati da un nobile intento che tutti noi sosteniamo e condividiamo. Purtroppo, almeno questa è la mia opinione, la via che si è scelta è una via sbagliata perché quella non risolve è il problema. Grazie. Non ho altri interventi. Schiano, la parola torna a lei. Cinque minuti. Beh, che dire, sono contento che la maggioranza sia favorevole e che ci siano già iniziative in atto sul nostro comune e nella nostra provincia. Mi auguro che siano incentivate, che ce ne siano di più, di più possibile. Perché al contrario di quello che hanno detto le forze di opposizione, questa non è una misura per lavarsi nelle mani, questa è una misura per salvare in estremis una situazione drammatica di una persona che non sa a cosa appellarsi per fuggire da una violenza domestica gravissima. E se noi iniziamo da qui, quando dobbiamo iniziare? Con i controlli? Cioè aumentiamo nuovamente la burocrazia per vedere se poi ne ammazzano un po' di più? Qui non è questione di regalare un permesso di soggiorno, qui c'è una denuncia e non è che si lava la coscienza facendo il permesso di soggiorno. La famiglia viene denunciata, si avvia una procedura penale. Stiamo scherzando. A volte rimango basito, a volte mi mancano le parole per descrivere quanto siamo distanti. Un po' ne sono orgoglioso, ma non è che l'altra metà non lo sono. Sono orgoglioso ma allo stesso tempo sono spaventato. Ma non da voi. Sono spaventato che non ci sia un minimo di sensibilità su questo argomento, che si debba per forza passare dalla forza d'ordine. Ma veramente? Cos'è? Volete mandare i carabinieri in casa della gente a vedere se la moglie esce di casa o no? Giustamente va fatta sensibilizzazione, quello che ho chiesto in questo ordine del giorno, nella speranza che dalle famiglie arrivi la spinta propulsiva alla denuncia e poi avviare il processo. Ma non possiamo più permetterci l'iter burocratico lungo e la speranza che questa scappi in un commissariato, perché poi la rimetterebbero nelle mani degli stessi persecutori che hanno ucciso Saman. Ma di cosa stiamo parlando? Io ringrazio la maggioranza e è un dispiacere non vedere purtroppo l'unanimità su un voto che dovrebbe essere favorevole. Vabbè, grazie. Dichiarazioni di voto? Quello che volevo rimarcare anche ora è il fatto che comunque il rilascio del permesso successivo, per cui comunque la cosa viene denunciata, quindi l'obiettivo è quello che ci sia maggiore emerso rispetto alle violenze. Capisco che effettivamente ci sono tantissime situazioni in cui le donne faticano a denunciare, si trovano nelle condizioni di non poterlo fare, ma ha maggior ragione se non trovare gli strumenti per poterli mettere nella condizione di poterlo fare e di sapere che successivamente a questa denuncia potranno essere protette nel nostro Paese. Io voglio pensare che le donne, le bambine, le ragazze straniere che arrivano nel nostro Paese sappiano di potersi sentire protette al sicuro anche se non è il loro Paese nativo. Quindi io assolutamente voto favorevolmente a questa proposta e voterò favorevolmente a tutte le proposte che ci saranno e spero che ce ne saranno delle altre in futuro perché sono assolutamente necessarie e fondamentali. Sposito? Non mi alzo, non voglio dare enfasi. Io veramente fatico, ecco come diceva il collega Scano, non ho le parole. Fatico a comprendere. Io non ci arrivo, lui non ha le parole, io non ci arrivo. Il Consiglio evidentemente ci toglie qualcosa. Io non arrivo a capire perché dovete fare un muro ideologico quando noi non siamo contro le donne. Voi cercate di far passare in maniera, uso il termine di Ancarani, surrettizia, sempre la stessa menzogna. Sono contro. Noi siamo contro l'illegalità. Vi abbiamo fatto presente in maniera più che chiara che trattasi di un problema culturale. E se non riuscite a capire che è lì che bisogna intervenire, purtroppo, ahimè, avremo ancora altre samane. Ne avremo tanti altri. Sapete che in Italia c'è una legge che protegge le donne che subiscono violenza? Esiste, da tempo. E sapete quante donne di queste sono morte? Dopo aver fatto una denuncia. E spesso anche più di una denuncia. Ahimè, anche lì è un pessimo problema culturale. Ciò che cerco di dire è che non basta una legge per salvare le donne. Cambiare la cultura. Una cultura di violenza deve essere sostituita da una cultura di comprensione. Una cultura in cui chi vive la propria vita la vuole vivere, la deve vivere come vuole. Come vuole. Samane, la foto che credo conosciamo tutti, che dà un bacio al ragazzo, è stata la sua condanna a morte. Cioè, ma riuscite, scusa, ma lo devo dire, ma riuscite a capire l'abisso, l'abisso culturale in cui sono certe persone, con una foto che è tutto sommato innocente, che uno la vede, il Signore Benedetto, ha determinato la morte di quella ragazza. E voi vi ostinate a ripetere la stessa litania. La stessa. Non riuscite proprio, anzi no, non volete, che è peggio, non volete capire, non volete capire. Se non cambierete la mente, la cultura di quegli assassini e di tanti come loro avremo, italiani, turchi, slavi, dappertutto, se non riuscite a capire questo, l'infibulazione piuttosto che altri metodi selvaggi, metodi barbari, se non riuscite a capire che in questo Paese non devono avere ospitalità, se non riuscite a capire questo. Ah no, perché è la cultura, poverino, perché l'infibulazione, il taglio di questo, di quell'altro, serve, non serve, eccetera, eccetera. Se non si capisce che bisogna dare un taglio, e finisco dicendo una... Ha esaurito il tempo, consigliere. Ha esaurito, peccato, peccato. Per gesto di buona volontà, per significare che non siamo contro Saman, noi ci astriremo, ma siamo contro questo tipo di preclusione ideologica. Altri? Apriamo la votazione. Ah no, Montanari. Sì, l'abisso culturale lo vedo, non è quello di cui parla Esposito, ma lo vedo. Di fatto stiamo parlando di estendere un permesso di soggiorno a delle donne vittime di violenza e parliamo di un periodo limitato a un anno, rinnovabile ma limitato a un anno. Io mi chiedo, ma voi volete fare conoscere la nostra cultura, quella occidentale? La cultura occidentale è una cultura che vigila, che ha degli strumenti di polizia, ma è una cultura nella quale c'è anche una società civile che crea gli strumenti di protezione, che crea degli strumenti solidi per cercare in primis di mettere in sicurezza chi può essere oggetto di violenza. Se vuoi far conoscere la nostra cultura, la nostra cultura protegge. Stiamo parlando di dare una possibilità in più, con uno strumento che ha una durata limitata, uno strumento che non toglie niente a nessun italiano. Per cui non capisco tanto fastidio per applicare un provvedimento che è a favore di qualcuno ma tendenzialmente non viene a togliere niente dal piatto di nessun altro. Io non so se essa mano si sarebbe salvata, non prendo né l'una né l'altra posizione. Preoccupa sicuramente il fatto che ogni discussione si trasforma sul fatto che non ci debba essere ospitalità. Questo, l'avete detto voi, emerge dalle vostre parole. Quindi mi chiedo se in questi anni ogni parola sui diritti civili o ogni volta che si andrà a trattare un argomento specifico, perché questo è un argomento ben specifico, dovrà trasformarsi in questa gavvara che sicuramente fa vedere l'abisso culturale che è stato citato. Apriamo la votazione. No, no, però consigli, consiglieri, consiglieri per cortesia. L'ordine del giorno è approvato, 17 voti a favore, 2 astensioni, astenuti il gruppo Fratelli d'Italia. Grazie, buona serata, ci riaggiorniamo l'undici. Ah, no, i verbali, scusate, i verbali, i verbali, i verbali, i verbali. Facciamo per alzata di mano i verbali di luglio. Alzate le mani, le vedo tutte alzate. Bene, grazie. No, si astiene la Beccari, perché a luglio non c'era. Bene, grazie. Buona serata. Ci vediamo l'undici. Grazie. 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 Grazie.